Buonasera, benvenuti, cominciamo tra pochissimi minuti e cominciamo ovviamente perché la questione è nata proprio in questo studio con il suo padre dalla vicenda di Ilaria Salis. Ci vediamo tra pochissimo. Grazie a tutti. Buonasera, buonasera e benvenuti a Piazza Pulita in questa Europa assediata dai trattori, dagli agricoltori, da una rivolta popolare contro le norme green, le norme verdi. C'è però una vicenda che impressiona molto l'opinione pubblica italiana, una vicenda sbucata apparentemente dal nulla, la vicenda di una giovane donna italiana, Ilaria Salis. Cominceremo da qui perché due settimane fa la denuncia delle condizioni di Ilaria Salis era partita proprio da questo studio, dalle parole del padre di Ilaria Roberto. Quindi pochissimi secondi, un minuto e cominciamo da lei. Cominciamo da queste immagini naturalmente, le immagini di Ilaria Salis, vedete i passi brevi, piccoli perché ha i ceppi ai piedi, ha delle strisce di cuoio ai piedi che la bloccano, ha un guinzaglio collegato al collo, come se fosse Hannibal Lecter, come se fosse qualcuno pronto a poter assaltare e uccidere il primo che passa. È una donna italiana di 39 anni, Ilaria Salis, cade dalle nuvole il nostro governo dopo aver visto queste immagini qualche giorno fa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani dice, incatenata a mani e piedi, lo abbiamo scoperto ieri guardando appunto le immagini. Insomma il ministro che ha la responsabilità di proteggere gli italiani all'estero laddove i loro diritti vengano minacciati, nulla sapeva di ciò che stava accadendo alla nostra concittadina Ilaria Salis, detenuta nel cuore della Mitteleuropa in un carcere di Budapest. Eppure già a dicembre, per esempio Repubblica, titolava così l'antifascista in catene da un anno a Budapest e l'Italia sta in silenzio. Il giornale di dicembre, vedete, è in cella in condizioni disumane, è tenuta al guinzaglio da un agente, mani e piedi legati. Dunque, il giornale lo scrive a dicembre, diciamo, e invece il ministro lo scopre soltanto due giorni fa. E allora, come si informa il nostro ministro degli esteri? La verità è che di Ilaria Salis, accusata di aver aggredito due neonazisti in Ungheria e trattata sotto la soglia della civiltà e del diritto, il governo sapeva già tutto da tempo. E questo è assolutamente chiaro riascoltando le parole che il padre di Ilaria Salis, Roberto Salis, ha pronunciato dentro questo studio due settimane fa. Ascoltatelo bene. Mia figlia è stata arrestata l'11 febbraio fino al 6 di settembre. Non è stato possibile contattare in alcun modo. Cioè non ha potuto parlarci per mesi? Sette mesi. Mia figlia ha avuto un periodo di tortura perché è stata portata in questura, arrestata, è stata spogliata, ha lasciata soltanto con i calzini, le mutande e il reggiseno. Gli sono stati dati dei vestiti sporchi che avevano in questura, degli stivali con dei tacchi a spillo che non hanno neanche della sua misura. E' stata in queste condizioni per otto giorni in una cella di isolamento. Non gli è stato consegnato il kit igienico, per cui non aveva carta igienica, sapone e assorbenti. E tra l'altro, siccome la sfortuna ci vede sempre bene, ha avuto anche il ciclo in quei giorni. Prima che l'ambasciata sia riuscita a consegnargli un pacco che era disponibile da lungo tempo, che conteneva degli indumenti di ricambio, un asciugamano per potersi asciugare dopo che faceva la doccia, sono passati 35 giorni dal momento dell'arresto. L'unico punto di contatto reale, fintanto che gli avvocati non sono avviati, è l'ambasciata. E l'ambasciata non può ignorare la verifica che queste persone abbiano la carta igienica. Ma lo Stato italiano deve essere capace di entrare nelle prigioni quando c'è un proprio cittadino e vedere come viene trattato. Insomma, avete capito? Ce lo dice suo padre, non credo che abbia ragione di mentire, quando dice che manda due mail, due mail, non una al governo, alla Premier Giorgia Meloni, tra ottobre e dicembre del 2023, informa la Farnesina, che d'altronde era stata sicuramente informata dall'ambasciata italiana a Budapest, che si era recata più volte in cella, quindi per sincerarsi delle condizioni di Ilaria Salis. Perché non si è detto niente? Perché nessuno si è attivato? Perché tutto questo silenzio, neanche un respiro, da parte del nostro governo, fino a questi ultimi giorni, come se improvvisamente ci fosse stata un'epifania su una situazione che invece era già ben conosciuta. Sul caso Salis, tra l'altro, due settimane fa, avevamo chiesto alla Presidente Giorgia Meloni che posizione avesse. Era stata Roberta Benvenuto e è andata a finire così. Conosso la von der Leyen, per caso parlerete anche del caso Salis, della militante... Scusa, non facciamo che ti devo mettere mai addosso, non parla, scusami tanto. Non parlo con piazza pulita, dovreste sapere. Allora le rinnovo l'invito. Grazie, guardi, io le rinnovo la risposta. No. Dall'ora Meloni non ha detto una parola su questo caso, a proposito dell'amico Orban, fino all'incontro ieri a Bruxelles, appunto con Victor Orban, e ha parlato quando davvero non se ne poteva più fare a meno e ha usato parole dolci, toni molto pacati. Devo dire, certamente sul caso Salis, ha parlato, diciamo, in guanti di velluto la nostra Presidente del Consiglio, d'altronde in questa trattativa, discussione tesa che c'è stata in Consiglio Europeo, Giorgia Meloni ha giocato un ruolo importante che era quello di cercare di portare Orban a votare anche il finanziamento delle armi in Ucraina e nello stesso tempo spendersi perché l'Europa non sanzionasse Orban per le ripetute violazioni dello Stato di diritto. Sapete che ci sono più procedure aperte a carico dell'Ungheria. Insomma, quanta attenzione, quanta delicatezza di fronte a una donna italiana in ceppi, una pericolosa estremista di sinistra, forse per questo anche si è taciuto così a lungo. Mi limito a dire, senza entrare minimamente nelle vicende giudiziarie, che, ripeto, l'area Salis in questo momento è innocente fino a prova contraria e che in passato Giorgia Meloni si è spesa e come nei confronti di italiani detenuti all'estero per Chico Forti condannato negli USA per omicidio condannato e su cui non voglio entrare nel merito della questione giudiziaria per carità, però la liberazione e il ritorno di Chico Forti in Italia è una battaglia pluriennale di Giorgia Meloni che ha anche dedicato a lui il premio Atreiu nel 2021. Quanto a Imarò, li ricordate, accusati di aver ammazzato un pescatore in India, Meloni addirittura li mise nel presepe come due statuine. Ecco, allora, senza entrare nelle vicende, perché questa differenza di comportamenti, questa differenza di atteggiamento? Per Salis sicuramente le parole sono state poche, i silenzi sono stati molti. Due ultime constatazioni, una riguarda il ministro Lollo Brigida, ministro dell'Agricoltura, capace di dire che non avendo visto le immagini di Ilaria Inceppi non era in grado di commentare immagini che avevano visto tutti, che viaggiavano su tutte le televisioni, che viaggiavano su tutti i social, le avevamo e le avevano visti tutti, tutti tranne lui. Ci si domanda per quanto tempo ancora Giorgia Meloni sarà costretta a tenersi un ministro gaffer di questo genere, soprattutto perché, a parte il vincolo di parentela e il vincolo di obbedienza. L'altra osservazione riguarda invece Matteo Salvini, che non è solo il leader della Lega, ma è vice-premier e ministro delle infrastrutture. Un vice-premier che anziché aiutare una nostra connazionale abusata in carcere all'estero, o almeno tacere, infierisce su di lei, prima della sentenza, invoca il processo a Budapest, l'accusa di reati che non ha commesso, per i quali è stata assolutamente scagionata, come quello relativo al danneggiamento di gazebo della Lega a Monza, come i magistrati hanno stabilito guardando le immagini, e si domanda come faccia a fare l'insegnante l'area Sotis, una donna che non sta facendo l'insegnante perché da un anno è in galera senza processo e rischia di restarci per vent'anni. E tutto questo perché si tratta di una militante di sinistra, anche se innocente, fino a prova contraria, ma sappiamo che il garantismo da certe parti vale soltanto per i propri inquisiti. Salvini diffonde Fake News in veste di Vice Premier e Ministro. La nostra Costituzione chiede che certi ruoli vengano svolti con disciplina e onore. Valutate voi, alla luce di questi fatti, di queste false dichiarazioni, se Salvini si è all'altezza del ruolo che gli è stato attribuito. Buonasera a Michele Serra, che è qui con noi anche stasera. Ciao Michele, bentornato. Buoncorrado, buonasera. Due settimane fa abbiamo commentato proprio in questo studio le parole di Roberto Salis, che denunciava la situazione, era già tutto chiaro, il governo già sapeva, eppure è servita quell'immagine di Ilaria in Ceppi per riaprire il caso. Perché? Perché evidentemente l'opinione pubblica qualcosa conta, non tanto, ma almeno qualcosa conta, e anche i media qualcosa contano. L'immagine di una giovane donna portata al guinzaglio come un cane, portata a spasso al guinzaglio come si fa con i cani, evidentemente ha inciso, non poteva passare inosservata. E poi conta, secondo me, anche l'evidenza dei fatti, i fatti non sono scomparsi. Cioè il fatto che una persona, per un reato in fondo non grave, perché lesioni guaribili dai 5 ai 7 giorni, nessuna prova che abbia effettivamente partecipato all'aggressione. Ecco, il fatto che per una vicenda del genere, per un reato del genere, rischi, si è letto addirittura 24 anni all'inizio, adesso... Sì. Beh, lei ha rifiutato un patteggiamento di 11, ha rifiutato un patteggiamento di 11 che fa impressione. Esatto. Pene da omicida, quindi pene degne di un omicida. Ecco, il fatto che ci fosse una sproporzione così evidente ha impressionato, ha contato, ha inciso anche quello. Quindi, due buone notizie. Esiste un'opinione pubblica e esistono ancora dei fatti sui quali si può ragionare, prescindendo forse dalle proprie idee politiche. Ci sono dei legami, no? C'è questa immagine che noi raccogliamo con le nostre telecamere a una festa di Atreiu. Potete farmelo vedere? Sono stati gli italiani a scrivere la canzone più bella sulla rivoluzione del 1956 che comincia... E' un'immagine che suggella questo rapporto molto forte tra una Giorgia Meloni, ancora ovviamente non presidente del Consiglio, ma all'opposizione e Victor Orban. Allora, questo legame forte tra di loro potrebbe aiutare a risolvere il caso? Oppure è la ragione per cui il governo italiano ha tasciuto così a lungo? Ma intanto noto che queste cose del moschetto accompagna, evidentemente, attraverso le generazioni, proprio una certa cultura. Io non so tecorato, non ho ancora capito la differenza tra il moschetto, la carabina, lo schioppo, poi ci documenteremo. Moschetto c'ha la lama, è una roba da arditi, eh? E tu come fai a saperlo? Eh, perché io ho visto i film della Prima Guerra Mondiale. Ecco, vabbè. Comunque, moschetto a parte... Gli arditi hanno avuto un ruolo importante, eh? Gli arditi, eh? E come no, l'arditismo è una delle matrici del... Del fascismo, eh certo. Gli arditi, poi dall'altra parte gli agrari con i loro soldoni, con i loro bei soldoni di finanziamento. Va bene. Detto questo, esaurita la parentesi armigera, speriamo che l'amicizia tra i due aiuti la Salis a tornarsene a casa. Io penso che Meloni sia in grande difficoltà, perché ci sono due Meloni su questa vicenda e anche su altre vicende. C'è una Meloni europea che ovviamente deve, volente o non volente, puntare su un processo giusto, possibilmente una carcerazione breve, essere garantista, diciamo, mettere al primo posto le garanzie. E poi c'è una Meloni ungherese, non so come si dica, io so i Giorgia in ungherese, ma insomma c'è una Meloni ungherese che invece probabilmente sarà, diciamo, meno sensibile alle sorti di Ilaria Salis. Tu sai che, diciamo, nel gergo politico popolare i comunisti o quelli di estrema sinistra sono chiamati le zecche, no? Ecco, per alcuni dei nostri governanti temo che in privato le persone come Salis siano ancora considerate zecche. E devono capire che però anche, pure se zecche, sono cittadini italiani e dei loro doveri istituzionali. Mi limito a dire una cosa, però, che qui chiaramente siamo anche in campagna elettorale. Da una parte abbiamo una Presidente del Consiglio che indubbiamente ha però la chance di riportare in qualche maniera a casa Ilaria Salis, o almeno fargli avere i domiciliari in attesa della sentenza. E questa cosa probabilmente colpirebbe l'opinione pubblica. Ho dei dubbi che invece la campagna forse nata di Salvini e dei suoi contro questa donna possa portare dei voti a Salvini. La mia sensazione è che oggi, anche chi la pensa in modo completamente diverso da Ilaria Salis, sia colpita da questa vicenda di questo padre e di questa figlia, no? di questa donna in ceppi, che comunque si pensi è un personaggio in questo momento debole e lasciato lì. Allora, come ti spieghi questo infierire di Salvini, dei suoi, su questa donna, come se fosse il principale problema del mondo, insomma? Come se... un accanimento un po' inspiegabile, secondo me, anche da parte dei suoi propri elettori. Tu che ne pensi? Ma penso che è uno dei misteri italiani. Esiste un partito, diciamo, sicuramente di destra, molto importante, che ha il potere ed esiste un partito, teoricamente di centro, che sistematicamente scavalca a destra i fratelli d'Italia ed è la Lega. Forse sono le famose eccellenze italiane, cioè riusciamo a disporre addirittura di due destre, molto di destra, cosa che in altri paesi generalmente non accade. Comunque non è sorprendente se c'è da sentire un'opinione, diciamo, brutale e superficiale su qualcuno dei fatti di cronaco, dei fatti politici, Salvini la dirà sicuramente. Quindi, diciamo, il livello di sorpresa è assolutamente vicino allo zero. Anzi, poteva dire di peggio conoscendolo. Poteva citofonare, poteva citofonare a casa Salis chiedendo abita qui la terrorista. Ecco, non mi sarei stupito. Visto che è una europarlamentare, visto che è una europarlamentare leghista, che si chiama Ceccardi, ha detto che Salis deve rimanere in carcere perché bisogna tenere alta la guardia contro il terrorismo rosso. Cosa di cui lei non è accusata. Io penso, cosa di cui ovviamente lei non è assolutamente accusata. E manco gli ungheresi l'accusano di questo. E manco la procura ungherese, insomma, la magistratura ungherese l'accusa di questo. Però la Ceccardi... Siamo peggio per loro, insomma, peggio per loro. Si ritagliano la parte della, diciamo, della minoranza estremista dentro il governo di centro-destra. Poi si beccano le corele, ma intanto, diciamo, quello che loro dicono non è perseguibile, e quindi, insomma, alla fine possono dire quello che vogliono, a differenza di un cittadino comune. Godono di un livello di protezione di cui si avvalgono nel momento del bisogno. Il ministro Lollobrigida è un altro caso. Prima spedisce la pasta rummo nello spazio in nome del sovralismo alimentare, poi se la prende con chi magari fa dell'ironia e con i giornalisti di sinistra cresciuti a champagne che non conoscono l'odore dell'etame. Per caso si riferivano a te? Ma guarda, non credo. Lollobrigida, no. Te non sei cresciuto a champagne? No, non ha la sfortuna di conoscermi. Comunque conosco e il profumo dello champagne, che poi in italiano si chiama spumante, e quello dell'etame, che è una pratica quotidiana, quella che ho con l'etame. Posso testimoniare la pratica quotidiana contadina? Sì, ho due trattori, ma non li uso normalmente per i blocchi autostradali. Vediamo in seguito, penserò in seguito. Ma questa cosa dei giornalisti di sinistra che bevono champagne nei loro salotti è oltretutto diventata di una noia mortale. Insomma, sarà a 15-20 anni che si sente questo genere di polemica a destra, ma suggerisco, anzi supplico, che introducano qualche variante nel repertorio. Hanno uno staff anche di consulenti, non lo so, i giornalisti che mangiano gamberoni nelle loro garçoniere, oppure i giornalisti che bevono ginfizzi in mongolfiera. Qualunque cosa, vi prego, vi supplico, pur di non risentire questa scemenza totale dei giornalisti di sinistra che bevono champagne nei loro salotti. Ma insomma, vabbè, basta, passiamo alla prossima domanda. No, no, io scusami, ma l'obbligida è lo stesso dell'inaugurazione del generale fascista Graziani, lo sai, Rodolfo Graziani, lui ha inaugurato una statua ad affile dicendo, quando era assessore nel Lazio, non più adesso, secondo me adesso se ci prova la Meloni lo fulmina, lui disse che questo Graziani, il generale fascista Rodolfo Graziani, è un punto di riferimento per noi nella Valle della Niene. Allora, qui si passano argomenti, ahimè, tragicamente seri, a parte che il monumento, ogni volta che lo vedo, è veramente brutto. Mausoleo, è non stato, scusami, il mausoleo. È mausoleo, sì, mausoleo, ma per fortuna non sacrario, ma insomma, mausoleo. Vabbè, allora, Graziani è stato riconosciuto criminale di guerra, è una persona che ha gasato migliaia di africani, però dicono, però anche nel servizio che avete fatto voi qualche tempo fa, la cosa che faceva quasi sorridere era che dicevano, eh beh, è un nostro concittadino, ma ho capito, ma se Pol Pot fosse della Valle della Niene, non è che inaugurerebbero un mausoleo di Pol Pot, no? Ecco, di fidare del campanilismo perché gioca dei brutti scherzi. Comunque dico alla popolazione della Valle della Niene, qualora fosse in ascolto, che nel loro territorio c'è un monumento a un criminale di guerra. Ecco, diciamolo per chi se lo fosse perso. Diciamolo, così almeno per informazione, diciamo. Senti, in compenso, noi abbiamo il Partito Democratico che per protesta contro Telemeloni vuole fare un sitino a Viale Mazzini durante il Festival di Sanremo. Non credi che l'opposizione sia in stato confusionale ormai? Sì, però tutta intera, devo dirti, Corrado. Sì, certo, anche il Partito Democratico. Dalle ultime dichiarazioni di Conte sembra che l'idea di fare un'alleanza di governo col PD abbia le stesse probabilità che diventare suora di clausura. Insomma, proprio non ci pensa neanche. Calenda e Renzi, pur abitando sullo stesso pianerottolo, non fanno che litigare da un anno, due anni a questa parte. Direi che il paesaggio complessivo è preoccupante. Ti faccio una proposta. Parliamo di opposizione quando l'opposizione medesima si manifesterà in forme comprensibili, riconoscibili e potremmo dunque dire qualcosa... Certo, potremmo parlare di un soggetto vivo, diciamo, esistente. Sì, un'altra cosa, Corrado, però i metalmeccanici, quando c'era Pippo Baudo, salirono sul palco dell'Ariston. Quindi forse... È un suggerimento, no? Di alzare la stifelle, quindi l'opposizione potrebbe fare irruzione nel palco dell'Ariston, ricordando la propria esistenza. Cioè fare una protesta a favore di telecamere, dove ci siano le telecamere. Questo potrebbe essere già un atto piuttosto astuto. Questo aiuta. Astuzia non da poco. Senti, invece si parla, diciamo, forse l'italiano di cui si parla di più oggi è Sinner, no? Qua tutti abbiamo visto la meravigliosa partita che ha fatto, straordinaria il recupero che ha fatto in 5-7 contro il russo Medvedev. Ecco, però anche su questo gli italiani si dividono. Sono motivate le critiche di chi gli chiede di pagare le tasse in Italia, perché lui ha la residenza a Monte Carlo? Sì, secondo me sono motivate. Uno dei problemi dello star system è che si vive un po' fuori dal mondo, in una specie di bolla dorata. Penso che Sinner dovrebbe essere aiutato dalle persone che gli stanno intorno e lo consigliano. Spero che non sia, diciamo, attorniato solo da commercialisti, ma anche da persone che possono dargli una mano a capire che gode in questo momento di una enorme popolarità meritatissima. Io ho visto due volte addirittura il match, e però appunto in virtù di questa popolarità bisogna che rifletta un attimo su questa scelta, che non presso tutti gli italiani, ma presso una buona fetta di italiani, non è popolare. Fatemi dire solo una cosa al volo. In quel match mi ha fatto tristezza l'idea che accanto a Sinner ci fosse la bandiera italiana, accanto a Medvedev non ci fosse nessuna bandiera. Medvedev è russo di Mosca e non credo che abbia invaso lui l'Ucraina, personalmente. e quest'idea che qualunque persona che poi fa il suo lavoro e la pensa come vuole, ma diciamo agisce legalmente con disciplina e rispettando le regole e con il proprio talento debba essere cancellato, la sua nazionalità deve essere cancellata, credo che sia qualcosa di molto triste in assoluto. Non so cosa ne pensi te. E' sicuramente triste, Medvedev paga per le colpe non sue, paga per le colpe dei suoi capi. Sarebbe ora forse che in Russia le persone di buona volontà provassero, anche se immagino che sia molto molto complicato, a organizzare forme di senso, di opposizione, a rivitalizzare un po' con la democrazia. Certo, non proprio Medvedev, ma qualcuno che lo faccia per lui e lo aiuti a poter riesporre presto la sua bandiera in modo dignitoso e decoroso. Senti, Michele, ti lascio con una battuta subito dopo questo servizio perché ti volevo presentare il prossimo Presidente del Consiglio. Bene. Gregorio Romeo. Stefano Bandecchi è noto per essere il ricchissimo padrone di università e squadre di calcio, canali radio e tv, oltre che per le indagini della Guardia di Finanza sui suoi affari. Da sindaco di Terni ha conquistato le prime pagine con opinioni controverse. Bussolini ha fatto delle cose buonissime, ha inventato le pensioni. E frasi sessiste. Un uomo normale guarda il bel culo di un'altra donna e forse ci prova anche. Poi se ci riesce, se la tromba anche. L'opposizione di Terni in piazza chiede le sue dimissioni. Tu cosa pensi del sindaco Bandecchi? Rabbrividisco. Quelle parole sono parole sessiste. È indegno, è indecente. A parte che lui non è ternano. Ma che vuole da Terni un livornese che vive a Roma? Ecco, lui è un imprenditore. Terni ha bisogno di tante cose. E avrà visto che qui c'è terreno fertile per i suoi disegni e politici e anche affaristici, diciamo. Nelle stesse ore al Palazzetto dello Sport si celebra un momento cruciale del movimento politico di Bandecchi. È il primo congresso programmatico di Alternativa Popolare. È un partito che guarda le donne, che vuole parlare alle donne. Stefano Bandecchi, un uomo dalla genialità rara. Tutto quello che ci abbiamo avuto in pochi mesi con Bandecchi, con tutti quegli altri che hanno fatto i capiscioni sindaci, diciamo, zero. Chi votavate prima voi? Io sono passato alla destra dopo tanti anni di militanza di sinistra. Terni che è una piccola città, è invasa da stranieri. Eh, altro che se siamo invasi. E Bandecchi pensa che potrà risolvere? Lo auguro. Qui troviamo le cose che ti aspetteresti da un congresso di Bandecchi, come personaggi pittoreschi. L'unica persona che mi vuole bene, che mi ha aiutato e mi ha dato un programma nella sua radio. I buttafuori, le hostess, la tv di Bandecchi che trasmette il congresso. E poi ci sono le cose che non ti aspetti. Sono coordinatori regionali stranieri per Umbria. Arrivano altri membri della sua comunità. E ne pensate voi di Bandecchi? Bandecchi! Lo conoscete Bandecchi? Come? Bandecchi! 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 Sì! Bravo! Bravo! Quando bussi la sua porta, si apri subito, non c'è la burocrazia. Ho fatto una domanda al PD, in 2012, per avere un cimitero islamico eterno. 12 anni che sto aspettando ancora. Ma quando ho bussato la porta di Bandecchi, in tre giorni è già pronto. Alternativa Popolare è un partito di centro fondato vari anni fa dal democristianissimo Paolo Alli, insieme ad Angelino Alfano. Un vincitore è un sognatore che non ha smesso di sognare. Il partito non ha mai ottenuto grandi risultati e ha vivacchiato nell'anonimato. Fino a quando? Stefano, posso raccontare anche dal nostro primo incontro? Puoi essere sincero. Allora, io ce l'avevo di fronte, lui mi guarda fisso e mi dice quanto costa il partito? Allora, io sono vacillato un po' e ho detto ma vogliamo andare in galera in due? Bandecchi è più democristiano di me dentro, nell'animo, perché è plurale, inclusivo. Noi fra tre anni e otto mesi guideremo questa nazione. E dico guideremo. perché se in sette mesi abbiamo fatto questo in tre anni e otto mesi a noi serve Roma. Lei è entrato, diciamo, nel lagone politico in modo dirompente, no? Poi vediamo che questo partito è essenzialmente un partito democristiano. Questa cosa è un po' sorprendente. Ma posso dare un bacio, scusi, mi riprenda così. Le voglio dare un bacio. No, ma questa cosa mi colpisce. Noi siamo un partito popolare. De Gasperi diceva che il più grande rivoluzionario è colui che va dritto. Anche le sue frasi su Mussolini che ha fatto cose buone. No, no, vedi, anche qui c'è un errore. Una volta l'ho detto in maniera chiara. Si crede che Mussolini abbia fatto solo cose buone. Ha fatto anche qualcosa. Ma purtroppo principalmente ha fatto degli errori. Noi siamo tanto capitalisti quanto socialisti. Lei le frasi che ha detto le ripeterebbe? Sì. Negli ultimi trent'anni in Italia nessuno ha fatto niente, mi hanno parlato bene. Io parlo male ma faccio. Sono il presidente del Consiglio Comunale di Terni. Quando ha sentito pronunciare quelle parole sulle donne, sugli uomini, cosa ha pensato? Che è veramente un uomo normale. È quello che dovrei dire io a mio figlio quando esce la sera. Mi sono innamorato dell'uomo Stefano Bandecchi. Non in quel senso, presidente, lei lo sa. Questo rappresenta quell'uomo, il sogno italiano. Un uomo che si è creato da nulla, si è costruito da zero. Io devo mettermi al servizio della mia nazione. Bandecchi ha la TV, una squadra di calcio, un impero economico. Mi ha ricordato qualcosa. Lei si riferisce al nostro presidente Silvio Berlusconi. Io dico che Bandecchi è qualcosa in più, con tutto il rispetto per Berlusconi. L'alternativa popolare sarà un partito equilibrato. Noi saremo equilibrati quanto lo è stato Ulisse quando è tornato ad Itaca. Prese alco e frecce, ammazzò quelle tre, quattrocento persone. E, come dice Omero, riportò l'equilibrio. Oggi da questo congresso nasce la grande rottura della destra e la sinistra che si allontaneranno sempre più. Perché nel mezzo ci sarà alternativa popolare a tenerle distanti. A braccia larghe, con muscoli forti! Michele Serra, anche Berlusconi l'avevamo sottovalutato nel 94. Speriamo di non sottovalutare anche Bandecchi. Che vuoi che ti dica? Sai, la cosa impressionante, Corrado, lui in sé, figurati, è un personaggio, diciamo, pittoresco, ma la cosa impressionante sono quelli che lo applaudono, che si sganasciano. Anche con Berlusconi accade la stessa cosa. Dobbiamo aspettarci di tutto, di tutto, Corrado. Abbiamo i maccheroni che vanno in orbita perché, essendo forati, sono antigravitazionali e quindi sono il cibo adatto per gli astronauti. E abbiamo gli eroi del wrestling che diventano nuovi presidenti del Consiglio. Non mi stupirebbe, ecco, voglio dire, non mi stupirebbe. Speriamo che ci lasciano invecchiare serenamente nei nostri piccoli ritiri. Ecco, mangiando, naturalmente... Senza bere champagne, eh? Fai meglio di me. Anzi, tracannando champagne nei salotti. Nei salotti, esatto. Grazie a Michele Serra per essere stato con noi. A voi. Ci vediamo tra due settimane e io insisto, guardate che questa è proprio una fake news del diavolo, cioè questa su Ilaria Salis che ha assaltato e distrutto un gazebo della Lega a Monza. Cosa fake pronunciata dal vicepremier Salvini e ripetuta dai suoi. Ma è falso, sentite, lo dice pure Crippa, il vice capo della Lega, alla nostra Roberta Benvenuto. La Lega augura alla signora Salis di dimostrare la sua innocenza. Ci sono dei trascorsi preoccupanti. Io sono di Monza. Nel 2017 la signora Salis, insieme a un gruppo di anarchici, centri sociali, ha distrutto, ha aggredito un gazebo della Lega e dei militanti della Lega. Ma è stata assolta da questo caso? Nel frattempo c'è un'evidenza, poi è stata assolta, bisogna vedere poi i motivi per cui è stata assolta. La signora Salis, probabilmente, metto il beneficio del dubbio, è partita dall'Italia con un manganello in tasca per picchiare dei manifestanti d'Ungheria. Probabilmente, non lo so, ma di questo si sta parlando in Ungheria. E sicuramente quello di cui si sta parlando in Ungheria è stato già fatto, è stato già commesso dalla signora Salis in Italia qualche anno prima. No, caro onorevole Crippa, è stata assolta, poi si vedrà per cosa è stata assolta, è stata assolta perché i magistrati, guardando i filmati, hanno visto che non solo Ilaria Salis non ha partecipato alla distruzione del gazebo, ma ha cercato di fermare quelli che lo stavano facendo. Quindi è stata assolta dai giudici scaggiolata per questo, non per qualche strana ragione oscura. Comunque, do il benvenuto a Paolo Mieli, storico, giornalista ed editorista del Corriere. Buonasera, benvenuto. E saluto il professor Tommaso Montanari, storico dell'arte, rettore dell'Università per Stranieri di Siena. Buonasera, Montanari. Buonasera. Allora, Paolo Mieli, abbiamo una detenuta in attesa di giudizio che denuncia gravi maltrattamenti, un partito di maggioranza che l'attacca e l'accusa di reati non commessi. Quanto è grave ciò che sta succedendo? Beh, gravissimo, gravissimo perché all'inizio sembrava che anche la destra, il governo, Tagliani, si impegnassero unicamente per sciogliere l'unica cosa che conta. L'unica cosa che conta è averla vista in catene, a guinzaglio. Poi un partito di governo, la Lega, ha ritenuto di alzare l'asticella, alzare il tiro, per le cose di cui avete parlato fino a questo momento. E questo può complicare la sua situazione per l'unica cosa che conta. Ripeto, l'unica cosa che conta è tirarla fuori, sciogliere quelle catene, togliere quel guinzaglio, prenderla, tirarla fuori, poi che abbia un processo. Va tutto benissimo, ma qua conta solo quell'immagine che abbiamo visto e fare sì che non si ripeta mai più. Questo è un punto che riguarda Salvini e il suo comportamento, però c'è qualcosa di più. Due settimane fa qui il padre di Alera Salis diceva di aver mandato due mail alla Meloni, di aver mandato la mail alla Farnesina, al Ministro di Giustizia. L'ambasciata italiana a Budapest si era legata in cella varie volte, eppure noi non abbiamo saputo nulla di questa storia e abbiamo anche scoperto che non c'era chissà quale trattativa aperta per cercare di alleviare queste sofferenze. Perché c'è stato questo silenzio fino a che non sono stati i media a far emergere questa storia? Perché per l'ambasciatore tutto quello che è accaduto quel giorno in tribunale e che lui, il personale dell'ambasciata, avevano già visto altre quattro volte, tutto quello che sapevano era stato invisibile. E quindi avrai notato anche tu quanto o poco il riflettore si è acceso sull'ambasciatore. Ma chi è? Che storia ha? Come mai? Ha parlato con qualcuno, qualcuno l'ha interrogato, ha avvertito che c'era il guinzaglio e le catene. Chi ha avvertito? Nel senso che tutto è nato dopo la trasmissione vostra di due settimane fa e poi, moltiplicata per mille, le immagini che abbiamo visto. Ma prima, chi sapeva? A chi l'ha detto? Cioè bisogna ricostruire. Undici mesi non sono... Poi undici mesi trascorsi, come lei ha raccontato in quella lettera, non sono niente, no? Anche perché ci sono stati... Allora, parliamoci chiaro. La fretta di arrivare alla Meloni, la fretta di arrivare alla Meloni-Orban, giornalisticamente ci ha fatto saltare una serie di passaggi che noi giornalisticamente... Mi fanno gli occhiali, guarda, perché non... C'è un problema con gli occhiali. Eccoci, no, no, sì, ora ti sentiamo, la sentiamo, professore. Dico, giornalisticamente ci ha fatto saltare una serie di passaggi, parlo non di voi, ma di noi, voi avete solo il merito di aver sollevato il caso. Però è una serie di passaggi che sono interessanti. Chi durante questi undici mesi sapeva che le cose stavano in quelle condizioni? Quante volte l'ha saputo? Chi ha avvertito? E quello che ha avvertito, ha avvertito altri. Finché... Professor Montanari, che idea si è fatta lei? Che risposte si dà su questa mancanza di attenzione verso la nostra concittadina? Beh, questa cosa, questo episodio è gravissimo. mette a nudo la falsità della retorica della nazione su cui Giorgia Meloni ha costruito gran parte della narrazione. Il partito si chiama Fratelli d'Italia. La Lega, da parte sua, non fa che dire da anni prima gli italiani. Bene, in questo caso c'è un'italiana. C'è un'italiana che però ha due torti. Quella di essere ideologicamente dalla parte opposta a quella di chi ci governa è quella di essere in prigione in un paese vicinissimo invece a chi ci governa. Valgono molto di più i vincoli con Orban. Vale molto di più un viscerale odio per un antifascismo militante della famosa italianità e della famosa appartenenza nazionale. Questo fatto insinua un'enorme contraddizione e svela che al governo del paese non ci sono persone che si sentono alla guida di istituzioni che rappresentano tutte e tutti noi ma che tutelano la loro parte e prediligono i rapporti con i loro amici ideologici in questo caso con il governo di Orban. E la cosa che mi preoccupa moltissimo è la sorte dell'area Salis e poi mi preoccupa anche la nostra perché mi chiedo se il sistema di democrazia sul limite di non esserlo più e molto spesso oltre il limite che c'è in Ungheria non stia un po' troppo simpatico a chi ci governa. Cioè la domanda è quanto è lontana l'Ungheria da noi. Paolo Mieli, sei d'accordo su quest'analisi di Montanari? Nel descrivere Orban manca sempre un dettaglio che è il capo del partito filorusso in Europa cioè solo per completezza dell'informazione tutte le cose che ha detto il professor Montanari sono vere ma diciamo il suo sistema più che assomigliare al sistema che stiamo vivendo il sistema melloniano italiano assomiglia al sistema degli invasori dell'Ucraina solo per essere completi. Sì ma ci sono delle vicinanze io ricordo Matteo Salvini sulla Piazza Rossa dire non vedete un mendicante? Non vedete un migrante? Putin è un modello di ordine. Secondo me questa osservazione è intelligente scusate non voglio fare dei complimenti ma secondo me... Insomma il sistema putiniano piaceva a Salvini piaceva anche a Giorgia Meloni fino a qualche anno fa era Putin era elogiato come un leader diciamo sovranista che sapeva far rispettare la disciplina. Se dovessimo calcolare i cambiamenti dai tempi che tu ricordi a oggi cioè che Salvini più o meno è rimasto il Salvini di quei tempi Orban più o meno è rimasto l'Orban di quei tempi Putin, il Putin di quei tempi la Meloni si presenta obiettivamente in un modo diverso poi non sono un suo elettore però l'unico spostamento significativo che si registra oggi in Europa si vede delle immagini simili a quelle di Draghi sul treno delle immagini nella cabina di regia che risolve la questione europea per dare soldi all'Ucraina con la von der Leyen, Charles Michel, Macron, la Meloni cioè si vedono delle immagini quindi per Paolo Mieli Giorgia Meloni sta riuscendo a traghettare quella destra diciamo sovranista e anche diciamo che strizzava l'occhio ai regimi liberali in una destra liberale e più integrata all'Europa? questo no, questo non lo so almeno ecco, non chiedo no, mi trattengo però è un disegno politico allora per gli altri c'è una staticità politica capisci? lei vedo che si muove 16 volte d'incontro con Ursula von der Leyen il trasporto di Orban che tra l'altro viene dal Partito Popolare Europeo dentro il Partito Conservatore cioè assisto da analista non da tifoso a un disegno e una persona capace di spiegare un disegno sai che ti dico? che a me quello che vedo cioè la vedo più a suo agio in Europa più... che in Italia sì, più in Europa che in Italia Tommaso Montanari è d'accordo con questa analisi? ma il mio Gioal Lorenzo Bernini che è studio da Storico dell'arte diceva che l'arte è far sì che tutto paia vero quando tutto è finto allora il punto è la Meloni è brava nel traghettamento politico è brava nella rappresentazione la Meloni si è schierata diciamo come una specie di pas d'aran dell'atlantismo e basta vedere le posizioni sulle guerre varie in corso il fatto di aver fatto ministro della difesa uno come Crosetto legatissimo agli interessi dell'industria bellica è schieratissima sul fronte atlantico e questo frutta un riconoscimento anche la Polonia che aveva dei grossi problemi specialmente fino alle ultime elezioni era accettabilissima in quanto antemurale della Nato allora diciamo la strategia narrativa è senz'altro molto abile Giorgia Meloni grazie a un'ortodossia economica alla Draghi e a un'ortodossia atlantista senza se e senza ma si fa perdonare la sua matrice si fa perdonare le sue politiche è una scelta intelligente non credo che sia una mutazione politica un cambiamento credo che sia un ottimo giocarsi le carte e un'ottima rappresentazione ma la sostanza poi la vediamo in Italia allora c'è un punto che è chiaro in cui rientra anche la questione Salis che oggi Meloni segna un punto perché diciamo porta Orban sulla linea degli altri 26 nel finanziamento dei 50 miliardi quindi sblocca il veto per i soldi all'Ucraina in cambio l'Europa chiuderà un occhio diciamo nel bastonare è così Orban sulla violazione dei diritti dello Stato di diritto è chiaro che in questo difficile equilibrio era difficile per Giorgia Meloni bastonare Orban sull'area Salis quindi ha usato toni molto pacati e vellutati perché diciamo in questo momento nella diciamo realpolitik serviva a questo allora però entriamo subito dopo la pubblicità sul punto dell'Ucraina e poi arriviamo anche a Gaza cioè allarghiamo un po' questa Meloni atlantista che convinta sostenitrice del finanziamento delle armi all'Ucraina della prosecuzione della guerra in Ucraina è diciamo ha un piano ha un piano ha stretto diciamo ha una posizione convincente oppure no allora su questo subito dopo la pubblicità quanto a Maso Montanari e Paolo Mieli cominciamo a discuterne allora professor Montanari artefice di questo accordo europeo è anche Giorgia Meloni questo accordo di rifinanziamento per le armi in Ucraina per 50 miliardi i fondi sono stati sbloccati è secondo lei un buon accordo? insomma fa molta impressione questa Unione Europea che trova nelle armi il come dire il punto di incontro il punto di caduta anche nell'idea di considerare le armi fuori dagli indici delle spese bloccate non la scuola non l'istruzione non la salute ma le armi e poi io mi chiedo se questa sia la strada io me lo chiedo dall'inizio quando è iniziata la guerra l'Ucraina aveva 51 milioni di abitanti ora in Ucraina ci sono 28 milioni di persone e se continua così alla fine una cosa un'unica cosa è certa l'Ucraina sarà rasa al suolo sarà distrutta sarà un cratere e come dire la strada che è stata scelta è quella di alimentare la guerra invece la pace è una scelta che ci è stato detto è per i nostri valori e ci è stato detto che è per il popolo ucraino io mi chiedo se il popolo ucraino sopravviverà per ringraziarci perché credo che sia la scelta sbagliata puntare sulle armi usare le armi per legittima difesa in una certa fase iniziale era comprensibile ma puntare tutto sulle armi e aver abbandonato completamente ormai in modo tragico diciamo un impegno vero diplomatico è stata una scelta è stata una scelta di campo dell'Occidente oggi si fa fatica anche a parlarne di questa guerra sui mezzi di comunicazione prima perché c'era Gaza ora si fa fatica a parlare anche di Gaza diciamo ci stiamo abituando a un disastro queste armi serviranno a difendere l'Ucraina o avranno l'effetto finale di raderla completamente al suolo io penso che questa domanda ce la dovremmo fare Paolo Mieli beh effettivamente la domanda io me la faccio e mi domando se loro non avessero ancora adesso le armi se non verrebbero rasi ulteriormente al suolo a meno che non si arrendano cioè se il sottinteso del discorso del professor Montanari è che loro si arrendano si stanno per terra come Sinner quando è finita la partita tutti quanti oppure se combattono senza armi cioè senza le armi inviate penso che verranno rasi più al suolo di quanto sono rasi al suolo cioè il metodo russo lo conosciamo no? quello non credo sia contestabile è un metodo che abbiamo visto in Cecenia insomma è un metodo che abbiamo visto ad Aleppo che abbiamo visto in Cecenia che abbiamo visto a Mariupol che abbiamo visto in tutta Lucana cioè loro vanno poi parleremo di Israele vanno vanno dall'alto con degli aerei buttano delle bombe chi c'è c'è e radono al suolo nella città chiaro? se tu non hai armi e non combatti ti raderanno al suolo oppure c'è il metodo Sinner cioè il metodo Sinner si sdraiano tutti per terra e i russi entrano e stiamo e forse qualcuno sorveglierà che non li calpestino se c'è un'altra via me la dite professor Montanari allora le guerre possono finire in due modi o con la sconfitta di una parte o con un patto con un accordo di pace con un trattato di pace l'Occidente ha scelto la strada tipo quale guerra è finita senza la vittoria dell'uno quando lei ne parla di che parla per esempio o viene distrutto sì o ma per esempio nella storia in 2000 anni qual è una guerra scusi se l'ho interrotta non lo farò mai più ma qual è una guerra che si è conclusa senza un vincitore un vinto con un trattato di pace vogliamo continuare così cioè questo è lo scopo quindi diciamo la risposta è che dobbiamo vincere contro la Russia allora realisticamente i pacifisti vengono accusati di essere come dire utopisti diciamo che l'Ucraina alla fine di questa guerra sarà distrutta lo dice uno come Lucio Caracciolo che non è proprio una mammoletta come voi dipingete i pacifisti dice così otterremo la distruzione dell'Ucraina l'ho ricordato anche pochi giorni fa allora diciamo l'alternativa è vinceremo cioè la Russia sarà sconfitta ora è una verosimile visione che una potenza atomica come la Russia sia sconfitta senza conseguenze atroci allora diciamo se noi non vogliamo che l'Ucraina venga sconfitta e non possiamo aspettarci che la Russia venga sconfitta realisticamente lo scopo sarebbe trovare la pace prima possibile e vuol dire sedersi a un tavolo e trovare un accordo che lo si dice dall'inizio che comporterà naturalmente dei cedimenti da entrambe le parti ma potrebbe porre fine alla guerra perché il discorso di Palomieri porta a dire che alla fine bisognerà vincere ed è quello che dice Ursula von der Leyen fino alla vittoria la vittoria io penso non penso anzi penso che quello che è successo in primavera il fallimento della controffensiva porterà a un certo momento a uno stallo e da questo stallo uscirà forse me lo auguro uscirà una tregua in cui una parte che era la parte iniziale dell'Ucraina voluta dai russi quella prima dell'attacco del 24 febbraio 2022 probabilmente resterà e sarà però una ferita aperta con delle conseguenze ma non è caduto di parlarne stasera quindi non penso affatto che le truppe di Zelensky entreranno trionfanti a Mosca non è questo questa guerra noi le persone come me che tifano per gli ucraini che si sentono proprio fortemente dalla parte degli ucraini consideriamo insomma non dico di averla già persa ma di però Paolo Mieli c'è un punto anche in questi 50 miliardi provati all'Europa c'è una stanchezza che poi è una stanchezza che era stata tradita anche nella famosa telefonata scherzo di due comici a Giorgia Meloni lei pensando di parlare col capo dell'Unione Africana aveva detto è stanca l'Europa c'è una stanchezza una fatica aveva parlato allora ci sono i soldi ma non c'è più un'idea davvero di come andrà a finire non c'è più una proiezione allora c'è soltanto la guerra per la guerra c'è un ministro della difesa italiano che è Guido Crosetto che dice questa cosa il mondo è cambiato l'Italia si prepari se c'è pericolo servono i riservisti cioè siamo dentro tra Gaza e l'Ucraina dentro un tunnel che è fatto solo di armi di guerra di difesa di riservisti si è persa completamente la slancio verso la pace da questo punto di vista non crede che a sinistra si dovrebbe premere di più per riprendere un discorso di pace cioè quando alla fine Conte accusa Schlein di essere bellicista forse è questo che intende dire c'è diciamo l'abbandono di una spinta di un progetto di pace di mediazione no c'è un pensiero di una certa sinistra che se vince negli Stati Uniti le elezioni Trump e se la pace quella piace che piace a Conte è più vicina hai capito questo c'è non Conte insomma ha dato delle risposte cioè è la pace del protezionismo è la pace del farsi gli affari propri dici tu perché mi importa quello che è successo esattamente quella pace è là quella che sta vincendo in America perché è vero quello che tu dici e capisco che ci abbia colpito tutti tutti e tre quello che è successo oggi in Europa sia pure in modo diverso però è vero che è la prima volta che in Europa succede una cosa la possiamo non apprezzare come il professor Montanari apprezzare come l'apprezzo io diversa da quella che sta succedendo in America negli Stati Uniti che stanno facendo negli Stati Uniti il partito su cui il professor Conte non si esprime quello di Trump ha bloccato gli ulteriori finanziamenti e Biden quella sì che è una cosa che mi stringe il cuore ha annunciato che venderà le proprietà requisite ai russi e darà quei soldi all'Ucraina che è una cosa a parte che non so neanche se sia legale e ci sono probabilmente no probabilmente no ma è una cosa che ti stringe il cuore per la prima volta che l'Europa fa una cosa noi che abbiamo sempre detto ci vuole una forza europea ci vuole ecco è la prima volta che l'Europa in un modo e hai ragione tu non allegro pieno di sensazione e fatica fa una cosa che poi non è altro che la continuazione di quello che faceva nei tempi precedenti e manda anche un segnale all'America che è con Biden capito quel segnale che non gli ha mandato Conte adesso Conte non conta niente non manda mai segnali non li mandò neanche fra Le Pen e Macron lui non manda segnali di politica internazionale è abbastanza neutrale questo mondo perché lui rappresenta un mondo rappresenta il mondo di quelli che l'altro giorno erano una parte dell'ex partito comunista che è molto neutrale rispetto a queste cose fa è un tipo di pacifismo si riconosce in questo pacifismo in questo mondo descritto da Mieli che è un mondo che oscilla a Montanari tra una simpatia verso Putin e un menefreghismo non dire noi dobbiamo pensare ai conti a casa propria a casa nostra e al gas che esca dai fornelli ma non potrei esserne più lontano io sono un cattolico mi riconoscono il Papa cioè fra la cura che si traduce in armi armate e morite finché non ci rimane più nessuno e il come dire il chiudersi dentro i confini dell'America di Trump che non si cura del mondo perché si cura solo di se stessa e si cura soltanto di alcuni degli americani ovviamente c'è un'altra possibilità c'è una terza possibilità che è prendersi cura del mondo che è quello che prova a dire Papa Francesco e non c'è soltanto una posizione diciamo di principio che è quella evangelica e quella cristiana ma c'è anche e la capacità storica di tessere una trama di relazioni diplomatiche in Italia c'è una cosa come Sant'Egidio il cardinale Zuppi lo abbiamo visto impegnarsi in questo naturalmente non è lo sforzo di una grande potenza come gli Stati Uniti però fra un'Europa che si riduce alle armi come unica forma di cura degli ucraini e gli Stati Uniti che se vince Trump se ne laveranno le mani nel mezzo c'è provare a costruirla la pace che non vuol dire ammazzatevi vi diamo le armi e che non vuol dire nemmeno ammazzatevi uno ammazzi l'altro e noi ci giriamo dall'altra parte non c'è dubbio che l'Ucraina è aggredita e che la Russia l'abbia aggredita ma il punto è come se ne esce armando l'Ucraina e basta perché il problema dell'Europa è che c'è solo quello allora intanto mi avvisano dalla regia che sta provando a mettersi in contatto con noi il ministro della difesa Guido Crosetto quando poi Crosetto ce l'abbiamo ecco ministro Crosetto è in linea con noi direi di no occhio e croce ci sono dei problemi va bene mi avvisate quando Crosetto è in linea intanto io vorrei aprire un altro fronte Paolo Mieli che riguarda Gaza anche qui in Europa esiste una frattura profonda su questo fronte e poi c'è una notizia proprio di queste ore per le Nazioni Unite Gaza non è più abitabile come se fosse il pianeta Marte cioè la distruzione sono 19 mila bambini orfani oltre la metà della striscia di Gaza è rasa al suolo non ci sono più le condizioni per abitare in quel luogo a questo punto la domanda è tutto questo è genocidio è quello che sostiene il Sudafrica che ha chiamato a processo Israele davanti al Tribunale di Giustizia Internazionale Allaia allora vediamo quali sono le posizioni in campo però anzi prima ancora si è collegato il ministro Crosetto quindi prima di passare a Gaza ministro Crosetto ci sente? Sì la sento benissimo Buonasera ministro ci dica eccoci qua Buonasera buonasera siccome stavo sentendo alcuni ragionamenti non mi capita spesso di guardare la televisione allora ho deciso di provare a chiamarvi per intervenire perché se lasciamo andare alcuni ragionamenti poi probabilmente ci allontaniamo anche dalla realtà non c'è qualcuno che ha voluto che l'Ucraina combattesse continuasse a combattere e rischiasse l'estinzione l'Ucraina ha chiesto a tutto il mondo di essere aiutata nel difendersi da un attacco che i russi stavano e stanno portando da due anni alla stessa Ucraina non c'è stato un solo giorno in cui hanno smesso di cadere le bombe russe hanno smesso di tacere i terarmati russi hanno messo di essere sparate pallotte le russe e nonostante questo abbiamo cercato in questi medi e questo vorrei che fosse raccontato anche la strada alternativa prima il professor Montanari citava la missione di Zuppi la missione di Zuppi il professor Montanari quella che c'è stata in Ucraina è stata organizzata da me utilizzando mezzi della difesa le mie le persone che ci occupano della mia sicurezza i miei guardi del copo hanno accompagnato Zuppi Zuppi sa perfettamente quanto è stata l'insistenza perché fosse ricevuta da Zerenti fin quando è stata fatta e si è messo in prima persona il sottoscritto del governo italiano perché questo incontro la stessa disponibilità c'è stata perché sempre non si è mai abbandonata dalla volontà di cercare una via diplomatica sta dicendo ministro mi scusi che lei sta dicendo che la missione di Zuppi ha trovato così tanta avversità era così diciamo avversata da chi sostiene la guerra che ci avete pensato voi a dargli la scorta perché era difficile proteggerlo no non era avversata ma andare a Chieve chiunque va a Chieve deve essere protetto in questo momento anche se va a lei chiunque vada cioè se non è chiunque vada necessità di scorta quindi l'abbiamo accompagnato come avremmo fatto anche con lei no perché sa molte sappiamo che le posizioni del Vaticano sulla Chiesa non sono state gradite molto è una questione di rispetto ci ho detto no ci ho detto per finire perché altrimenti nel ragionamento non si capisce che c'è un invaso qualcuno che attacca e qualcuno che si difende sembra che la colpa sia di chi ha chiesto di difendersi se Lucan avesse fatto il discorso stesso che stasera il professor Montanari ha riproposto cioè avesse smesso di difenderla sarebbero finiti gli attacchi non penso probabilmente quei 21 milioni sarebbero oggi 18 milioni sarebbero oggi 15 milioni se l'intenzione è quella di occuparla e questo è un punto sull'altro punto perché siete passati a parlare di Gaza io vorrei che qualcuno parlasse anche del fatto che le uniche due missioni umanitarie fatte attraverso navi militari fornendo aiuti ospedalieri e sanitari sono state fatte da Italia e Francia l'unico paese che si è mostro cercando di coinvolgere tutti gli anni che adesso lo stiamo facendo anche su terra a Gaza l'unico paese che fin dall'inizio ho detto anche contro Israele le posizioni di Israele che la soluzione è quella di due Stati è stato l'Italia per cui non facciamo un racconto per cui c'è un governo che in qualche modo cerca di sostenere la guerra no c'è un governo che fa di tutto per cercare la pace ciò nonostante di fronte a un popolo invaso che ha chiesto aiuto abbiamo aiutato è la soluzione più giusta ci sarebbe potuto essere un'altra strada tutti noi ce lo siamo chiesti ce lo siamo gravi è stato chiamato in causa vuole dire qualcosa al ministro Crosetto? ma intanto noto che è veramente singolare in un momento in cui questo governo dispone di un megafono mediatico immenso che il ministro Crosetto si senta di intervenire in un dibattito del genere cioè l'atteggiamento di questo governo verso l'informazione libero dibattito mi colpisce molto l'intervento diretto non programmato è una cosa molto singolare che come dire va nel conto di un imperialismo mediatico molto forte addirittura commentando quello che abbiamo detto e quello che ancora non abbiamo detto perché di Gaza ancora non abbiamo parlato lo trovo un dato singolare francamente vabbè insomma voglio dire voglio dire no 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 scusi su questo intervengo io l'abbiamo fatta intervenire noi intendo dire quindi insomma alla fine l'abbiamo fatta entrare noi avremmo potuto non farlo io gradisco sempre che i ministri e gli esponenti si presentino di persona perché mi sembra più corretto ma sappiamo anche che abbiamo un discorso diretto ma insomma non è questo il problema io andrei sui contenuti io ribadisco le mie critiche alla posizione di Fratelli d'Italia su questo ma io apprezzo che lei dica la sua quindi non c'è problemi non ci sono problemi la ringrazio la ringrazio però il professor Montanari ha rappresentato proprio in modo classico le ricordi che io non vado in televisione mai vado a vederne l'ultimo quanto sono stato le ricordi quante volte lei e la sua organizzazione mi invitate le ho detto di no ho pensato di fare una telefonata per fare una precisazione adesso tolgo il disturbo perché la democrazia del professor Montanari non prevede la possibilità che il governo dica la sua ha un'idea tutta sua di democrazia mi auguro non riesca mai a portare in questo paese perché chiuderebbe la bocca chiunque arrivederci mi spiace che lei insegni ai giovani speriamo di vederla di persona la prossima volta molto di persona ma in assenza di quel signore che ha dimostrato ancora una volta la sua capacità a non accettare la democrazia non è questione di democrazia è così da sempre ministro ognuno qui dice quello che ritiene opportuno come l'ha detto lei e l'abbiamo fatta parlare nonostante ripeto esista un veto di due anni ormai del partito di Guido Corsetto a partecipare a questa trasmissione Paolo Mieli questo lo dico e questa cosa qui è una cosa che pesa dopodiché mi hanno detto c'era il ministro Corsetto in linea ho accettato di farlo intervenire perché questo è un luogo dove tutti parlano e ha detto delle cose ha detto il suo parere è in sua difesa è importante ascoltarlo quindi sono vere le due cose lui può esprimersi e non è imperialismo mediatico farlo in questa maniera ma è sicuramente poco democratico mettere il veto e non partecipare di persona alle trasmissioni come dovrebbe essere una battuta su questo di Montanari e di Mieli mi sono sentito dire ora che il professor Montanari tappa la bocca al governo impedisce al governo di parlare ma c'è un senso delle proporzioni di questo governo la cui presidente del consiglio interviene direttamente indicando persone come Saviano o questo e quello ora io impedisco al governo di parlare un governo che ha una potenza mediatica inaudita in questo momento in Italia che ha messo le mani su qualunque informazione e il ministro vuole rappresentarsi direttamente in una trasmissione su cui il suo partito così democraticamente ha messo il veto e non si può notare che questa è una bizzarria e io divento il liberale perché impedisco di parlare al povero ministro Crosetto che non ha altro modo di rivolgersi Palomieli vuoi dire qualcosa su questa vicenda cerchiamo di essere meno umbilicali possibili ma insomma Crosetto ha detto la sua e ha avuto un modo di uscire un po' infelice va bene comunque il tema per riassumere il ministro dice sull'Ucraina ci siamo impegnati mi sono impegnato anch'io per cercare una soluzione proteggendo la missione di Zuppi che lo dico io qui non era gradita non era gradita neanche agli ucraini lo sappiamo bene così come le missioni di Papa Francesco perché qua ti devo dire Zuppi è stato ricevuto da Zelensky e da Biden non poteva non da Putin si poteva Putin bastava essere come Putin va bene cioè tre persone è andato due lo hanno ricevuto ci hanno parlato scusa Paolo il fatto che il ministro della difesa dica gli ho dato la mia scorta cosa significa che non c'era una scorta per il vescovo Zuppi per il monsignor Zuppi perché non c'era una scorta per il monsignor Zuppi perché non c'era una scorta data evidentemente dagli ucraini o non c'era una scorta data da qualche altra nazione abbiate pazienza io la leggo così no non è così e poi scusa ha visto per completezza purtroppo comunque Zuppi è stato ricevuto da Zelensky e da Biden Zelensky è stato là la scorta e purtroppo lo dico per ricollegarmi a quella chiacchierata che facevamo prima con Montanari questa missione di Zuppi aveva uno scopo preciso oltre a portare la pace nel mondo riportare in patria i bambini rapiti dai russi purtroppo per colpa non certo di Zelensky non certo della scorta non certo di Biden quei bambini non sono ancora tornati cioè ne è tornata una minima quantità in condizioni non verificabili e quindi quello là che non l'ha ricevuto Putin l'unico dei tre che non l'ha ricevuto non gli ha neanche restituito non gli ha neanche fatto fare la figura di restituirgli i bambini Montanari devo dare la pubblicità e poi continuiamo su Gaza dieci secondi sottolineare che nelle missioni internazionali dei vertici della chiesa cattolica molto spesso è lo Stato italiano a garantire una serie di passaggi ma non è stato il ministro Crosetto personalmente è stato lo Stato il ministro della difesa l'avrebbe fatto qualunque ministro è molto curioso dire l'ho fatto io la mia scorta cioè ci mancherebbe altro allora pubblicità ripartiamo da Gaza ci eravamo interrotti sul processo intentato a Israele per genocidio al Tribunale Internazionale di Giustizia poi vi devo far vedere anche un pezzo straordinario nel senso fuori dall'ordinario perché non avete mai visto dentro un quartiere ultra ortodosso di Gerusalemme per sentire cos'è la guerra pochissimi minuti rimanete qui questa è la strada principale di Geula da sempre in questo quartiere convivono diverse comunità ortodosse alcune più aperte altre meno molti giovani dedicano la loro vita interamente allo studio della Torah nelle Yeshiva le scuole ebraiche allora eccoci qua abbiamo avuto anche la sorpresa crossettiana magari poi ci torniamo perché io vi devo portare dentro il processo a Israele è scandaloso processare Israele per quello che sta succedendo a Gaza molti se lo domandano molti appunto sono indignati per questo Israele ha attaccato durissimamente Sudafrica praticamente dicendo che in questo modo è come se si fiancheggiasse chi vuole l'olocausto chi ha voluto l'olocausto chi ha tifato per l'olocausto vediamo però quali sono le ragioni di questo processo l'indagione la corte ritiene di non poter accogliere la richiesta di Israele di archiviare il caso con queste parole la corte internazionale di giustizia ha deciso di non respingere il caso avviato lo scorso 29 dicembre dal Sudafrica che accusa di genocidio Israele nella striscia di Gaza ma cosa ha stabilito il tribunale internazionale dell'AIA e sulla base di quali elementi nel primo giorno di udienza l'11 gennaio scorso davanti alla corte i legali del Sudafrica si sono espressi così le azioni di Israele sono diventate e continuano a essere atti genocidari contro la popolazione di Gaza nel loro dossier di 84 pagine ci sono due tipi di prove le prime sono i numeri della devastazione a Gaza oltre 21.110 palestinesi uccisi dall'inizio dell'attacco di Israele di cui almeno il 70% donne e bambini l'85% della popolazione costretta a lasciare la propria casa più di 61 ospedali e strutture sanitarie danneggiate o distrutte la seconda tipologia di prove portata dai legali di Pretoria è il linguaggio di alcuni membri del governo e altri funzionari israeliani vengono citate le parole del primo ministro Benjamin Netanyahu stiamo colpendo i nostri nemici con una forza senza precedenti o del ministro della difesa Gallant stiamo combattendo contro animali umani e ci comportiamo di conseguenza il Sudafrica ha quindi chiesto a Israele di prevenire atti genocidari e di sospendere immediatamente le operazioni militari contro Gaza la convenzione ONU contro il genocidio questo era lo strumento utilizzabile per poter portare un caso giuridico davanti alla Corte Internazionale di Giustizia con l'urgenza che Sudafrica a mio parere ha ben documentato di fare qualcosa per evitare che un rischio di un danno irreparabile alla popolazione civile di Gaza si concretizzi il 12 gennaio è stato poi il giorno della difesa israeliana la componente chiave del genocidio ovvero l'intenzione di distruggere un popolo tutto in parte manca totalmente il primo argomento è che in realtà Israele sta solo esercitando il proprio diritto di difendersi difendersi da un qualcosa che gli avvocati israeliani hanno provato a loro volta le azioni gravissime di Hamas del 7 ottobre nel sud Israele a inquadrare sostanzialmente come genocidio e tuttavia nulla giustifica una risposta che possa a sua volta integrare il crimine di genocidio più convincente forse è stata la seconda linea ossia avere cercato di dimostrare che in realtà Israele sta facendo di tutto per prendere delle precauzioni nei confronti dei civili tuttavia sono contraddetti dai fatti e in particolare dai rapporti delle stesse organizzazioni dell'ONU ma anche Medici Senza Frontiere l'Organizzazione Mondiale della Sanità che in questi mesi in queste settimane hanno quotidianamente denunciato il contrario il 26 gennaio si è conclusa la prima fase di questo procedimento la Corte ritiene che Israele debba adottare tutte le misure in suo potere per impedire atti che rientrino nell'ambito della Convenzione sul Genocidio e per prevenire e punire l'incitamento diretto e pubblico al genocidio nei confronti della popolazione di Gaza Israele dovrà inoltre agevolare gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza resta però fuori la richiesta principale del Sudafrica ovvero il cessate il fuoco immediato a mio parere il tipo di misure che sono state imposte a Israele comporteranno di fatto se non un cessate il fuoco però una necessità da parte di Israele di cambiare radicalmente il modo in cui sta utilizzando la forza a Gaza le sei misure imposte sono state prese sostanzialmente all'unanimità quindi non credo che si possa diminuire il significato innanzitutto giuridico ma anche politico di questo tipo di ordinanza che avrà sicuramente delle ripercussioni non solo nei confronti di Israele ma anche di tutti gli stati terzi la decisione del più importante tribunale delle Nazioni Unite riuscirà ad influenzare il conflitto tra Israele e Hamas e che effetto avrà sulle sorti della popolazione di Gaza Allora Paolo Mena la domanda è questa si può processare Israele come un qualunque altro Stato? Si può processare Israele per crimini di guerra a prescindere dal fatto che Israele sia nato sia uno Stato nato dall'Olocausto? Assolutamente sì per crimini di guerra ma il capo di imputazione del Sudafrica è diverso il capo di imputazione del Sudafrica sostiene che Israele è genocida dal 1948 cioè dal giorno in cui è nato che la nascita stessa di Israele è la versione araba la Nakba la nascita di Israele è l'inizio di un percorso genocidario che trova a Gaza la sua espressione finale quindi Sudafrica prende per buona l'idea che non esiste un diritto all'esistenza di Israele sostanzialmente ed è questa la tara di questo processo se hanno iniziato a fare genocidio il 14 maggio del 1948 significa che altro che due popoli due stati ma quando mai la loro la teoria dell'impianto giuridico sudafricano è che l'esistenza stessa dello Stato di Israele per come sono andate le cose seconda cosa rispetto alla tua domanda si possono commettere crimini di guerra anche atroci ma non è genocidio per esempio quando i nazisti entravano in città brumettevano a ferrofuoco tutto perché erano ritenuti ma i nazisti l'hanno fatto anche gli occidentali nel terzo mondo a ferrofuoco non era genocidio tra cui abbiamo lo svuotamento della striscia di gas cioè di un luogo popolato possono essere crimini di guerra possono essere ma sono una cosa diversa da genocidio abbiamo creato si è creato nel 1944 da un lemma di Lemkin non sto a fare la storia un termine che è stato definito in rapporto alla scia perché sai qual è la differenza che la differenza è che gli ebrei venivano presi in quanto ebrei e si voleva distruggere il popolo ebraico qui tu puoi volere una volta i nazisti distruggere il popolo di Cosenza un esempio inventato perché ritieni che che siano una minaccia eccetera perché ospito dei cosi ma non è genocidio Tommaso Montanari allora io penso che la sentenza dell'AIA sia importante politicamente spero praticamente non per sanzionare un genocidio che c'è già compiuto che non c'è compiuto ma per evitare che si compia cioè i processi per genocidio fatti a cose finite possono stabilire cosa è successo qui l'azione militare sono ancora in corso e la sostanza non giuridica ma politica di quello che abbiamo visto dire all'AIA è guardate che ci sono degli elementi che se continuate così potranno portare a dire veramente che questo è un genocidio intanto ci sono degli elementi di intenzionalità i ministri di Israele che dicono questi sono animali umani degradare l'avversario a un rango meno che umano è l'anticamera di ogni genocidio il presidente Herzog della Repubblica Israeliana che dice tutti i palestinesi sono colpevoli in quanto tali allora il punto è ci sono degli indizi che possono far pensare che l'esito potrebbe essere quello ci sono ministri dell'Israele che parlano di un trasferimento forzato poi stemperato in Africa dell'intero popolo palestinese cioè c'è il rischio che possa succedere ecco io direi che basterebbe questo per rendere la sentenza importante e l'intervento del tribunale importante cioè perché il mondo si muova perché questo non avvenga e questo lo dico non solo ovviamente per il popolo palestinese a cui Sudafrica è particolarmente legato Nelson Mandela diceva la nostra libertà di sudafricani liberati dall'apartheid non sarà piena se non sarà piena la libertà dei palestinesi ma vorrei dirlo anche per Israele io come dire sono stato in Israele ho molti amici israeliani mi sono battuto per evitare il boicottaggio delle università israeliane che sono piene di dissidenti che considerano un fascista e lo chiamano così e sarebbe folle boicottare le università in quanto tali credo che un Israele condannato per genocidio sarebbe un fatto enorme nella storia umana cosa vorrebbe dire nella legittimazione del neofascismo cioè lo Stato che nasce dalla Shoah per definire la quale nasce il nome genocidio che alla fine si potrebbe macchiare davvero di un genocidio il danno non solo per Israele ma per tutti gli ebrei per l'ebraismo mondiale che è una parte fondamentale nella mia cultura di cristiano la cultura ebraica è un pezzo fondamentale allora siamo di fronte a quello che Giorgio Lapilla avrebbe chiamato un crinale apocalittico anche solo immaginare che Israele possa compiere un genocidio è una cosa vertiginosa se si pensa alla storia di Israele allora prima che questo possa accadere nei fatti e ci sono degli indizi molto gravi se ci sono degli indizi molto gravi allora come dire pensiamoci valutiamoli non facciamo finta di non vedere non è il momento di minimizzare allora il dibattito sul genocidio e le parole che vengono usate in Israele sono spesso molto più forti più dure di quelle che vengono utilizzate nel dibattito italiano dove consentimi Paolo Mieli basta alzare una critica per essere accusati di antisemitismo successo al sottoscritto e ti assicuro che è successo a molte persone io stesso diciamo per uno speciale che abbiamo mandato in onda in piazza pulita sono stato bersagliato da persone da rabbini persone anche in Italia che mi hanno definito come sponsor inconsapevole dell'olocausto robe allucinanti in Israele ma lasciamo perdere sono miserie queste qui in Israele il dibattito è molto acceso allora ti porto a Gerusalemme con Luciana con l'uccello che ci racconta qualcosa che si è visto poco guardate sul cartello c'è scritto la maggioranza chiede un cessate il fuoco subito sono israeliana e sono contro la guerra il governo ci sta mentendo ci dicono che la guerra porterà più sicurezza ma solo la pace può farlo prima di tutto dobbiamo riportare a casa gli ostaggi e l'unico modo per farlo è fermare la guerra non vogliamo più questo governo radicalizzato i nostri migliori ragazzi sono là e tu dici che stanno facendo un genocidio si signora perché secondo lei cosa stiamo facendo a casa stiamo difendendo il nostro paese questo lo dice lei voi non difendete il paese io sto difendendo il paese ed è così che lo difendi sì io faccio la mia parte sto cercando di fermare queste cazzate da giornalista mi accorgo che nei media internazionali il mondo è andato avanti ma sui giornali israeliani ogni giorno c'è una nuova storia di un soldato ucciso di un sopravvissuto al massacro di un ostaggio ogni giorno è il 7 ottobre sapevamo dal primo momento che non dovevamo attaccare Gaza perché sarebbe stata la nostra Stalingrad Hamas in un solo giorno ha ucciso molti israeliani è stato orribile ma non c'è proporzione se consideriamo quello che Israele ha fatto loro per anni l'unica soluzione è quella dei due stati devono vivere in un paese libero come noi questa è la strada principale di Geula sì sai qui un uomo non può stare in macchina da solo con una donna non sposata in questo caso possiamo solo perché siamo in più uomini da sempre in questo quartiere convivono diverse comunità ortodosse alcune più aperte altrimenti molti giovani dedicano la loro vita interamente allo studio della Torah nelle yeshiva le scuole ebraiche in alcune stradine dei quartieri di Geula e di Measharim si chiede addirittura agli stranieri di non passare vestiti con abiti immodesti indossare i pantaloni invece che una gonna per esempio per una donna è vestire in maniera immodesta questo libro lo porto sempre con me ho letto questo passo per gli ostaggi per i nostri bambini ancora nelle mani di Hamas se vedi in tv o leggi sui giornali che siamo divisi che c'è la destra e la sinistra queste sono cazzate nel momento del bisogno siamo tutti uniti prima del 7 ottobre eravamo divisi qui a Geula si studiava solo e si aspettava la venuta del Messia ma Dio con la guerra ci ha unito ci ha fatto rendere conto che abbiamo bisogno di tutti dei soldati che studiano le scritture e di quelli che combattono è comune tra voi a Redi passare del tempo al bar con gli amici? no per noi è una rarità tu usi lo smartphone? sì ma mi è concesso solo per lavoro ad esempio non posso usarlo per vedere foto di donne anche perché ai nostri telefoni vengono applicati dei blocchi prima di poterli usare e che lavoro fai? io lavoro per un'agenzia di viaggi e tu invece che lavoro fai? io studio la Torah dalle 9 di mattina alle 6 di pomeriggio vengo pagato per questo per imparare il governo mi dà una piccola somma circa 700 shekel sei sposato? sì da tre mesi normalmente a che età vi sposate qui? tra i 18 e i 20 io ne ho 22 quindi io sono in ritardo la Torah dice che bisogna sposarsi presto perché quando hai 35-40 anni non hai più le energie per fare figli e il nostro obiettivo è farne quanti più possibile e quanti figli vorresti? 10 12 sono i genitori a scegliere la persona giusta nella comunità non è nostra abitudine andare in giro per conoscere ragazze no non è da noi usi Instagram Facebook? uso Facebook ma solo per lavoro e dove ti informi? principalmente tramite un gruppo Whatsapp della nostra comunità Haredim è il modo migliore così tutti possiamo essere sempre informati ad esempio quali sono le notizie di oggi? si parla di un attacco terroristico a Gerusalemme qui vicino possiamo anche leggere i giornali ma solo due volte a settimana durante lo Shabbat e a metà settimana avete la televisione? vorreste avercela? cosa pensi di questo governo? voi avete votato per Netanyahu? non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare avrebbe dovuto fare la pace o altrimenti attaccare Gaza con più forza molto è stato distrutto ma lì c'è ancora Hamas che potrà ricostruire ancora una volta io non voglio che la guerra si fermi si ma stanno morendo anche molti civili si ma molti stanno con Hamas ma ci sono anche donne e bambini tra le vittime anche molte donne e bambini lavorano per Hamas prima del 7 ottobre che rapporto avevate con i palestinesi che vivono qui? io non riesco a fidarmi degli arabi per me dietro ogni arabo ci può essere un terrorista quindi qual è la soluzione per voi? qual è la vostra speranza? vorrei la pace vorrei che non ci fossero più attacchi terroristici qualche anno fa qui un terrorista ha ucciso quattro persone a una stazione dell'autobus con un coltello non posso più vivere nella paura voglio fermare tutto questo una volta per tutte i palestinesi dicono che questo avviene perché sono arrabbiati perché da 75 anni voi stareste occupando la loro terra lo dicono le scritture date Israele agli ebrei la bellezza è che questo quartiere è il quartiere della straordinaria serie televisiva Stissel Geula dove è entrata la nostra Luciana Coluccello un'ultima domanda su questo tema prima dei sondaggi è molto semplice Paolo Mieli Tommaso Montanari la sproporzione dei numeri della vendetta israeliana è giustificata dall'orrore senza precedenti del 7 ottobre stiamo parlando di 1.200 1.300 morti trucidati persone violentate persone abusate persone sequestrate dall'altra però abbiamo oltre 20.000 morti civili ecco questa sproporzione è giustificata dall'orrore del 7 ottobre? allora non è una vendetta io metto tutti i morti nel conto di Hamas capito? sia i morti del 7 ottobre sia i morti successivi è una cosa che Israele ha scelto di fare e non entro nel merito di questa scelta può darsi che avrebbe fatto una cosa migliore a aspettare ma ci sono degli ostaggi noi in Italia siamo rimasti bloccati 55 giorni per un solo uomo moro che era tenuto in ostaggio delle brigate rosse ed è rimasto un dramma perché trattare non trattare cosa fare lì ce ne sono 136 ancora a voi ve ne potranno fregare niente ma che vi importa ma no dico ma 136 cosa sono al cospetto di ma quelli furono rapiti insieme ai 1200 quanti uccisi nei modi barbari che vedrete perché quella è una cosa filmata nella storia poi ne hanno rapiti 250 e stanno cercando io avrei fatto altre scelte ma non c'entra niente quello che avete mostrato di Israele è semplicemente un paese libero che ha molte io ho fatto una domanda molto semplice se la sproporzione giustifica è giustificata al 7 ottobre secondo me no ma va messa nel conto di Hamas hai capito? va messa nel conto di Hamas Tommaso Montanari aspetta fammi dire un'ultima cosa per non ritornare nella storia di Netanyahu in Israele del 7 ottobre c'è un governo di unità nazionale tutto ciò che è stato fatto su Hamas e su Gaza è stato fatto da un governo di unità nazionale che ha l'opposizione un gruppo che ha la consistenza grossomodo di l'EU quindi lo hanno condiviso tutti i partiti non è solo Netanyahu ogni singolo atto tutti i morti tutta questa storia qua non è Netanyahu perché Netanyahu che ha tutta la mia disestima ma è la comoda via di fuga di ogni discorso è Netanyahu Netanyahu Montanari ma trovo terribile quello che ha detto Paolo Mieli cioè che vada tutto sul conto di Hamas come se Israele non avesse avuto la possibilità di fare delle scelte morali come se fosse sullo stesso piano di Hamas ma Israele è uno stato che democratico seppure con una serie di derive nazionalistiche integralistiche ma è uno stato democratico come si fa a dire che le decisioni di Israele sono di fatto state prese da un gruppo terrorista da Hamas tra l'altro con questa logica ogni atto ricade nella responsabilità di un atto precedente in una catena infinita che arriva per l'appunto fino al 48 e anche prima questo è insensato c'è una responsabilità morale qui e ora che deve spezzare la catena perché altrimenti diciamo non solo ci sarà davvero un genocidio ma non riuscirà a estirpare Hamas del tutto perché altri popoli arabi musulmani prenderanno quel testimone cioè non è solo un massacro ma è anche una follia perché non estirpa per nulla ciò che vuole estirpare quei ragazzi che abbiamo sentito parlare questi integralisti israeliani non saranno più sicuri perché ci sarà sempre qualcuno la guerra al terrorismo con i carri armati non è mai funzionato perché la guerra è un'idea orribile ma è un'idea e non si combatte in questo modo allora l'idea che israeli non avesse scelta se non quello di fare una strage mostruosa è un'idea mielli allora fammi dire una cosa che io trovo che tutto questo sia dunque israeli è un popolo di 9 milioni di cittadini circondato da 500 milioni di paesi arabi su 22 paesi arabi musulmani solo 6 hanno riconosciuto alcuni recentemente lo Stato di Israele gli altri passano da una negazione attiva del diritto a esistere a una negazione ultra attiva capito quindi metterla sul conto di Hamas significa noi assistiamo nell'indifferenza è esattamente come gli anni 30 identico capito assistiamo a ma no cioè quella il manifesto cioè tenere sotto scopa Israele in quel modo riempirla di missili riempirla prima del 7 ottobre e con paesi che negano nel rapporto 6 sì gli altri dei 22 no ne negano il diritto all'esistenza per voi tutto questo è pace Montanari veramente in 30 secondi sarebbe un dibattito da 3 ore questo qui allora Paolo mi ha detto come negli anni 30 ecco credo sia un gravissimo errore cioè tirare fuori l'olocausto nei due sensi è gravissimo sono contrario alla sinistra parlo dell'olocausto parlo di prima parlo peggio di quello che scatenò la seconda guerra mondiale non c'entra l'olocausto sì ma questo paragone è il paragone corrente che porta alla fine a dire che c'è un nuovo Hitler che va abbattuto allora questo come io sono assolutamente contrario all'idea che nel giorno della memoria si come dire non si commemorino i morti i ebrei durante la Shoah ma si parli di Gaza due cose che si devono tenere fortemente distinte così proprio raccapriccio quando anche esponenti del mondo ebraico dicono tra i palestinesi Namas c'è un nuovo Hitler perché è un altro modo assurdo di tirare in ballo e di strumentalizzare io non l'ho detto non sono né esponente del mondo ebraico né l'ho detto la fine di questo ragionamento è quello che va fermato in tutti i modi lo stato è tale per cui bisogna per cui alla fine anche i 20.000 morti di Gaza si giustificano perché bisogna fermare sono nel conto di quelli sono nel conto di quelli scusami sono nel conto di quelli come i morti della seconda guerra mondiale sono nel conto dell'aggressione del primo settembre del 39 scusa Paolo se alla fine se alla fine quel genocidio che all'Aia si paventa ci fosse davvero non sarà processato Hamas Hamas era processato per quello che ha fatto il 7 ottobre in mille altre occasioni ma per quello che succede a Gaza la responsabilità è del governo israeliano che non si può dire che è scaricato dalla responsabilità perché si mette sul conto di Hamas questo vuol dire andare in un gioco al massacro in cui ognuno si dirresponsabilizza verso il peggio è una spirale senza fine di morte e basta ma non possiamo pensare come Israele sia sullo stesso piano mi pare che le due posizioni siano molto chiare io devo dare i sondaggi un'ultima parola a Montanari per una questione diciamo personale che riguarda il ministro Cresetto però prima di lasciare la parola al professor Montanari questa volta siamo rapidissimi Renato Mannheimer buonasera con Eometra saltiamo le intenzioni di voto che registrano una leggera flessione mi pare uno 0,4 in meno di Fratelli d'Italia una leggera crescita dei 5 Stelle del Partito Democratico magari vediamolo questo primo cartello vai velocissimamente perché siamo in grande ritardo solo il primo cartello per farvi capire un attimo come si sono distribuiti i pesi diciamo tra i primi quattro partiti 28,5 Fratelli d'Italia meno 0,4 19,7 più 0,3 Partito Democratico 5 Stelle 16,8 più 0,5 Leggeri Salvini meno 0,4 8,5 ma quello che ci vuole illustrare stasera Renato Mannheimer riguarda dare i cartelli sulla fiducia al governo e a Giorgia Meloni anzi a Giorgia Meloni al governo vediamoli ce li spieghi lei con grande sintesi Mannheimer Giorgia Meloni anzi il governo di Giorgia Meloni ottiene una fiducia abbastanza elevata anche se è inferiore a quella che avevano un anno dopo il loro insediamento Draghi e Conte che però sono stati governi popolarissimi questa fiducia nel governo è superiore negli uomini e è molto inferiore nel sud il sud sembra ecco questo vedete quindi vediamo che gli uomini gradiscono Meloni più delle donne di più la Meloni e gli anziani più dei giovani di più e poi la cosa più interessante è quello dopo quella territoriale nel senso che si vede una minor fiducia al sud vedete 35 contro 52 come la interpreta Mannheimer è la perdita la sfiducia di un bacino elettorale importantissimo per Fratelli d'Italia e vedremo quali conseguenze avrà questa cosa in futuro può avere a che fare con il reddito di cittadinanza Mannheimer con l'abolizione del reddito può avere a che fare con l'abolizione del reddito di cittadinanza sicuramente c'è anche da notare che politicamente Fratelli d'Italia sostiene molto il governo ma la Lega un po' meno nella Lega c'è un 20% di critici il che mostra le crepe che abbiamo visto anche nelle altre puntate della trasmissione nel sossegno elettorale al governo benissimo è stato magistrale stasera le do più tempo la settimana prossima quando ci vediamo professor Montanari sul punto veramente le do un minuto non di più perché poi arriverà qui il giudice Antonino Di Matteo prego volevo ricordare al ministro Crosetto che la democrazia è quella cosa in cui un professore può criticare un ministro e dire che non dovrebbe essere ministro della difesa uno che faceva lobbista delle armi mentre invece un ministro non può dire a un professore che non dovrebbe insegnare per le sue idee politiche perché l'università è autonoma e perché i professori non si scelgono secondo loro idee politiche e hanno diritto di critica come qualunque cittadino forse il ministro Crosetto non lo sa che cosa è la democrazia allora da professore glielo ricordo va bene grazie professor Montanari quando Guido Crosetto vorrà sedersi qui al posto di Paolo Mieli per una bella intervista con tutte le domande naturalmente è il benvenuto già diciamo dalle prossime settimane glielo cedo eh glielo cede il Paolo Mieli anzi diciamo magari ci sarà pure Paolo Mieli chissà allora grazie professor Montanari a Paolo Mieli subito dopo la pubblicità il nostro fantastico Stefano Massini e Antonio Di Matteo il magistrato Antonio Di Matteo che viene a parlarci di colletti bianchi di abuso d'ufficio e anche del caso di Ilaria Salis che ci torniamo pochissimi minuti tornate qui Cinque spari questi cinque spari li sentirono tutti quella notte di 40 anni fa a Catania erano le 21 e 30 del 5 gennaio anno 1984 e cinque spari fecero sì che la mafia mettesse a tacere per sempre un uomo un uomo la cui storia vi voglio raccontare stasera non perché siano i 40 anni la cifra tonda non me ne frega assolutamente niente della cifra tonda vi racconto di quest'uomo perché la sua storia come sempre accade per le storie importanti racconta un'altra storia una storia con la maiuscola una storia di cui è necessario sapere parlare quest'uomo si chiamava Giuseppe Fava detto Pippo e di lavoro faceva il giornalista anzi no quando gli chiedevano che il lavoro facesse lui rispondeva faccio il testimone faccio il testimone con il dovere di parlare in uno dei suoi pezzi più famosi Pippo Fava scrisse che il lavoro del giornalista era legato a tre cose la verità la giustizia e la libertà spiegava che non c'è verità senza la giustizia non c'è giustizia senza la verità e la verità che dà la giustizia determina la libertà come dire che l'informazione non è qualcosa di secondario di occasionale di marginale l'informazione è qualcosa che crea la giustizia e la giustizia crea la libertà sono inscindibili sono un equilibrio sono un sistema però purtroppo poi c'è il potere ed è il potere a far sì che il prezzo della verità della giustizia della libertà sia un prezzo altissimo e Pippo Fava lo conosceva benissimo questo prezzo gli venne tolto il suo giornale più di una volta venne portato in tribunale venne accusato venne portato sui giornali ogni volta Pippo Fava riusciva a rialzarsi però era durissima era sempre più dura scriverà Pippo Fava sui giornali la mafia la mafia non è soltanto il delinquente per strada la mafia è qualcosa che sta nelle banche che sta nel governo sta a Roma nella politica la mafia è parte profonda di un sistema direte voi era un eroe sì è vero peccato che gli eroi li vedi soltanto nei film e nei film gli eroi sorridono appena li inquadrano parte in sottofondo il violino che suona e sorridono perché loro sanno che su quel violino che suona loro sono gli eroi mentre nella realtà non è così gli eroi nella realtà non sorridono manco per niente gli eroi nella realtà sono sempre dannatamente soli come scriverà Pippo Fava spesso mi domando ma chi me lo fa fare so che in uno di questi giorni qualcuno darà 500.000 lire a un ragazzotto per strada mi spareranno e fine della storia e andò esattamente così alle ore 21.30 del 5 di gennaio 1984 qualcuno per strada sparò 5 colpi a Pippo Fava nella sua automobile e a questo punto inizia la seconda parte la seconda parte in cui semplicemente dissero che la mafia non esisteva la mafia non c'era in città la mafia non c'era anzi la colpa era di quelli come Pippo Fava che parlavano della mafia perché facevano sì che le aziende se ne andassero rovinando l'economia come dire che se hai una malattia la colpa se stai male non è della malattia ma è del radiologo che ti fa la lastra ecco dissero che la mafia non esisteva dissero che la mafia qui non c'è e mentre lo dicevano ridevano e io sono sicuro che quelle frasi dette mentre ridevano anzi quelle cinque parole la mafia qui non c'è furono come cinque spari uguali identici a cinque spari grazie a Stefano Massini e allora sta per entrare in questo studio un uomo un magistrato che ha dedicato grande parte della sua vita alle sue inchieste che vive sotto scorta da molto più di vent'anni e probabilmente dovrà tenersela per sempre un uomo che ha combattuto la mafia e che ci parla stasera di bavaglio di colletti bianchi di mafia e di rischio autoritarismo in Italia buonasera al magistrato Nino Di Matteo buonasera bentornato ben trovato grazie Nino Di Matteo è stato sostituto procuratore a Palermo ha istruito il processo sulla trattativa stato mafia è stato membro del CSM oggi è alla direzione nazionale antimafia antiterrorismo ha scritto insieme al collega Savero Lodato il colpo di spugna trattativa stato mafia il processo che non si doveva fare per fuoriscena ne parliamo perché è un libro amaro diciamo dopo la sentenza della Cassazione che ha in qualche maniera archiviato questo processo questa 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 questo processo a cui lei ha dedicato un pezzo importante della sua vita sulla trattativa stato mafia e le stragi però io vorrei cominciare intanto da questo bellissimo racconto ricordo che ci ha fatto Stefano Massini lei Pippo Fava se lo ricorda se lo ricorda bene guardi il ricordo di Giuseppe Fava mi emoziona anche da un punto di vista personale io ero un giovane studente universitario di giurisprudenza e ho iniziato ad alimentare la mia passione per l'antimafia per la magistratura il mio sogno di diventare magistrato anche leggendo quella splendida rivista il mensile i siciliani che Giuseppe Fava dirigeva ricordo le sue inchieste giornalistiche quella sui cavalieri del lavoro di Catania quella sui rapporti tra la mafia dei corleonesi e pezzi importanti della DC siciliana quella dei rapporti di contiguità tra una parte della magistratura e la mafia era un giornalismo di inchiesta che anticipava le inchieste della magistratura e io credo che oggi questo paese ha un disperato bisogno di questo giornalismo di inchiesta di questo tipo di giornalismo e quindi quando sento vedo leggo di limitazioni bavagli limitazioni al diritto di informazione sono molto preoccupato da tutti i punti di vista ecco allora glielo chiedo più esplicitamente perché insomma qui ci troviamo di fronte ad un disegno complessivo ridisegno complessivo della giustizia che parte da una forte limitazione della diffusione delle notizie che riguardano le indagini delle intercettazioni nelle ordinanze di custodia cautelare l'abolizione di alcuni reati tipo il reato di abuso d'ufficio la limitazione diciamo dell'applicazione del reato di traffico di influenze ecco secondo lei tutto questo che cosa ci dice che cosa ci racconta ma intanto è importante avere una visione di insieme non possiamo parlare di riforme della giustizia analizzando la singola riforma in maniera separata dalle altre e se noi abbiamo questa visione di insieme ci rendiamo conto a mio avviso di alcune cose la prima è che la riforma nordio è in continuità con la riforma cartabbia ed entrambe queste riforme affondano le loro radici in un passato anche lontano il programma sulla giustizia del primo governo Berlusconi per certi aspetti proprio quelli relativi al bavaio e all'informazione la separazione delle carriere l'abolizione del principio di obbligatorietà dell'azione penale anche nel piano di rinascita democratica della P2 addirittura lei vede una continuità guardi io mi limito alle constatazioni in fatto leggendo alcuni stralci alcune parti di quel piano di rinascita democratica si leggono le stesse cose di quelle che oggi formano oggetto di discussione ma c'è un'altra cosa che mi sembra di poter sottolineare il complesso di queste riforme disegna una giustizia con delle caratteristiche particolari intanto disegna uno scudo di protezione per i potenti una giustizia a due velocità appunto timida e con le armi spuntate nei confronti delle manifestazioni criminali tipiche dei colletti bianchi e dei potenti è un diritto penale forse eccessivamente anche dilatato e forse eccessivamente anche rigoroso nei confronti delle manifestazioni che sono tipiche del dissenso sociale e politico o anche delle manifestazioni criminali tipiche degli ultimi della società e questo mi preoccupa perché è come se venisse sempre più o meno il principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge è come se si dovesse consacrare una situazione per cui il potente il potere costituito deve essere preservato da una parte attraverso la limitazione dei poteri di indagine della magistratura e dall'altra parte attraverso il nascondimento dei fatti benché non più coperti da segreto attraverso il bavaio alla stampa attraverso il divieto di pubblicare il contenuto di ordinanza si dice dottore che questo bavaio alla stampa su cui noi ci siamo espressi molto chiaramente come giornalisti sia però una tutela per le garanzie di chi è indagato ma è innocente fino a prova contraria che quindi non deve essere messo diciamo dentro il ventilatore delle illazioni delle supposizioni dei sospetti senza una sentenza guardi alcune volte quando ascolto queste cose penso che qualcuno spacci per garantismo quello che è invece uno scopo di protezione dei potenti e sono sacrosante le garanzie difensive di ogni indagato e di ogni imputato si devono esplicare all'interno del processo la nostra procedura sia nella fase delle indagini sia nella fase cautelare sia nella fase delle impugnazioni delle ordinanze cautelari sia nella fase del dibattimento consente la piena esplicazione del diritto di difesa però nascondere certi fatti ripeto non più coperti da segreto che hanno un oggettivo interesse pubblico penso alla frequentazione di un criminale da parte di un politico o penso ad aspetti che potrebbero anche non essere penalmente rilevanti ma io credo che significhi privare comunque il cittadino del diritto dovere di controllare l'attività di chi lo governa di chi gestisce il potere io penso che chi ricopre certi ruoli debba essere pronto alla piena trasparenza e la sua vita pubblica in nome diciamo del garantismo e della tutela diciamo come dire di questo principio ci sono state delle ispezioni ci sono credo una dozzina di procure nei confronti delle quali il ministero di giustizia ha mandato delle ispezioni dei controlli con il sospetto che ci sia un dialogo con i giornalisti non consono lei cosa sente è stato dentro il CSM oggi comunque è in una posizione privilegiata come osservatore che cosa vede? io ricordo che quando ero al CSM fui uno dei pochi insieme al collega Sebastiano Ardita quando dibattemmo sull'entrata in vigore di questa norma della riforma cartabbia a denunciare un pericolo di un fatto di una situazione di un evento di una strage di un sistema corruttivo potranno parlare ed è giusto che possano parlare gli avvocati gli imputati gli indagati i parenti degli imputati possono parlare ed è giusto che possano parlare i figli di Riina e di Provenzano del periodo stragista ma non può parlare ripeto sempre di notizie non più coperte da segreto un magistrato che si occupa di quelle indagini gli stessi procuratore capo possono parlare soltanto a determinate condizioni per ragioni eccezionali e attraverso conferenze stampa o comunicati stampa io penso una cosa e mi riporto sempre a ricordi di studente e quando il pool di Palermo iniziò a istruire il maxiprocesso Giovanni Falcone e Paolo Borsellino iniziarono le loro esternazioni pubbliche le loro interviste le loro conferenze per spiegare che cosa veniva fuori dalle dichiarazioni di Buscetta sui assetti di Cosa Nostra ben prima che si arrivasse a un dibattimento e ben prima che si arrivasse alla sentenza definita tutto questo non sarebbe più consentito Balcone e Borsellino sarebbero imbavagliati in questa loro attività sarebbero stati sottoposti a procedimento disciplinare colpisce anche una cosa dottor Di Matteo che tutto questo garantismo in nome degli imputati fino a sentenza definitiva sembra non valere in una parte del mondo politico per una ragazza una donna che si chiama Ilaria Salis che ha 39 anni che è stata portata letteralmente in catena in ceppi con il guinzaglio al collo in un'aula di tribunale ma che è in attesa di un processo e di una sentenza quindi è innocente come tutti gli altri insomma peraltro più un reato che non è un omicidio comunque insomma ricordiamo l'abbiamo raccontato in questa trasmissione 5-7 giorni di prognosi per le persone che sono state secondo i magistrati colpite da lei insieme ad altri ma a prescindere da questo è innocente fino a sentenza definitiva eppure abbiamo sentito autorevoli esponenti politici penso a Matteo Salvini vice premier parlare di lei come se fosse già una colpevole che deve scontare quindi la sua pena in Ungheria ecco che effetto le ha fatto vedere quelle immagini della concittadina di Arasalis a Budapest le devo dire che sono rimasto sconcertato e mi sono venute in mente subito tre cose la prima quanto sia sacrosanto il convincimento che il livello di civiltà di un popolo il livello di evoluzione di un sistema giuridico si misuri proprio dal modo in cui vengono trattati i detenuti rispettati i loro diritti e prima ancora la loro dignità immagini come queste sono assolutamente significative di una dignità che diciamo senza un'esigenza particolare viene gratuitamente calpestata la seconda cosa che mi è venuta in mente è un paragone con le immagini che abbiamo visto l'anno scorso più o meno in questo periodo il 16 gennaio del 2023 quando venne arrestato Matteo Messina Denaro che era già allora ovviamente latitante da 30 anni e condannato definitivamente anche per decine di omicidi e numerose stragi eppure i carabinieri che lo dovevano accompagnare presso l'ufficio di polizia lo hanno accompagnato erano in due senza manette la terza cosa che mi viene in mente di carattere un po' più sistemico è quella di ricordare quello che è accaduto nel sistema giudiziario ungherese soprattutto con riferimento alla magistratura dal 2011 in poi quindi sostanzialmente se ricordo bene da quando Orban è il capo del governo ungherese abbiamo assistito prima ad una improvvisa epurazione improvvisa epurazione di decine e decine forse centinaia di magistrati dall'oggi al domani venne approvata una legge che portò a 62 anni il limite massimo di età che prima era a 70 anni e dall'oggi al domani centinaia di magistrati si ritrovarono a dovere abbandonare la loro toga poi c'è stata una riforma importante del consiglio giudiziario nazionale che è l'equivalente del nostro consiglio superiore della magistratura i cui poteri sono stati molto limitati e poi c'è stata una sorta di gerarchizzazione assoluta all'interno della magistratura per cui i giudici di rango inferiore devono sostanzialmente sempre seguire l'interpretazione che di una norma dà il giudice di rango superiore quindi gerarchizzazione verticalizzazione limitazione dell'autonomia e della indipendenza della magistratura ecco io credo che poi forse certe scene che abbiamo viste possono essere anche figlie di una cultura giuridica di una cultura giudiziaria che va verso diciamo un riavvicinamento del potere magistratuale con il potere politico un asservimento della magistratura al potere politico quando si dice quando la presidente del consiglio Meloni dice io non posso chiedere orba niente perché in Ungheria la magistratura è completamente indipendente per quello che mi dice lei dice una cosa parzialmente vera nel senso che l'indipendenza magistratura in Ungheria è stata minata dice lei da una serie di atti del governo io credo proprio di sì e purtroppo penso che l'effettivo rispetto delle democrazie del principio della separazione dei poteri che sta alla base delle democrazie moderne sia in varie parti del mondo ma anche purtroppo d'Europa oggi messo in pericolo da una volontà di sottoporre in qualche modo la magistratura a un controllo della politica dell'esecutivo in particolare due cose infine le voglio chiedere la prima riguarda il CSM lei è stato membro del CSM il vicepresidente del CSM Pinelli ha detto che il CSM deve fare meno politica insomma che cosa significa lei dentro il CSM ha visto fare politica e un'ultima domanda può dire che le migliori persone sono state scelte per le procure le persone più meritevoli guardi io sono rimasto un po' sorpreso dalle affermazioni del vicepresidente Pinelli perché il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo di rilevanza costituzionale è previsto dalla Costituzione con la legge istitutiva del 1958 è stato previsto che in materia di leggi che riguardino la giustizia il Consiglio Superiore della Magistratura possa anzi debba esprimere pareri possa addirittura fare delle proposte quindi la funzione di alta politica del Consiglio Superiore della Magistratura è una funzione che è prevista dalla legge istitutiva e garantita dalla Costituzione se ci si riferisce se il vicepresidente Pinelli intendeva riferirsi ai pareri alle proposte a quei dibattiti accesi che abbiamo fatto nella scorsa consigliatura a proposito di alcune riforme in cantiere io penso che abbia sbagliato il bersaglio la politica che non mi piace del CSM non è quella in cui apertamente si affronta il dibattito sulle scelte politiche in materia di giustizia non mi piace la politica dei salotti non mi piace la politica del collateralismo non mi piace ce n'è molta noi abbiamo cercato di combattere anche la politica del collateralismo con il potere attraverso le correnti attraverso le cordate attraverso le scelte anche dei procuratori o dei presidenti ecco lei si sente di dire che ai vertici diciamo delle magistrature sono stati scelti dal CSM i migliori? guardi non sempre non sempre ma questo è il mio parere d'altra parte cioè a volte hanno vinto le cordate politiche sul merito gli appoggi politici sul merito in qualche occasione ho avuto la sensazione di sì non le chiedo in quale caso immagino che non si possa dire però l'ultima cosa che le dico invece riguarda il suo libro che è insomma un libro importante da leggere perché in qualche maniera chiude un capitolo importante della sua vita il colpo di spugna che ha scritto con Savero Lodato insomma la sentenza di Cassazione boccia il processo sulla trattativa stato-mafia e lei come si sente? Pensa di avere sprecato molti anni importanti della sua vita? Assolutamente no io resto convinto che le sentenze della magistratura devono sempre essere rispettate ma possono essere criticate anche quelle della Cassazione che non possiedono il crisma della infallibilità e soprattutto il vaglio critico deve essere tanto più intenso quanto come in questo caso la Cassazione con poche e pochissime pagine di motivazione giudice di legittimità la Cassazione entra pesantemente nel fatto nella valutazione del fatto e disattende quelle che erano state le conclusioni sancite complessivamente in 10.000 pagine di motivazione dei giudici di primo e di secondo grado in primo grado tutti gli imputati sia i mafiosi che quelli istituzionali erano stati condannati in secondo grado alcuni di quelli istituzionali erano stati assolti ma per mancanza di dolo ma mai avevano messo in discussione che si erano verificati determinati fatti ne cito soltanto tre un dialogo a distanza tra una parte delle istituzioni e la parte cosiddetta moderata di Cosa Nostra nelle sentenze c'era scritto che questo dialogo costituiva un'alleanza con un nemico Provenzano per sconfiggerne un altro ritenuto più pericoloso Riina nelle sentenze perfino in quella assolutoria degli ufficiali dei carabinieri c'era scritto che la mancata perquisizione del covo di Riina era stato un segnale di distensione verso l'ala trattativista di Cosa Nostra nelle sentenze c'era scritto che Provenzano era stato protetto a lungo nella sua latitanza da esponenti delle istituzioni forse erano delle verità vengono trascurate delle verità che dimostrano che c'è stato comunque questo rapporto tra istituzioni però c'è qualcosa che alla fine fa saltare tutto cioè l'architrave della sentenza vista dal cittadino comune che in fondo nulla di ciò che con le stragi i mafiosi volevano fu ottenuto guardi e quindi anche non si è verificato diciamo ma il reato che noi avevamo contestato quello che la vulgata popolare anche indotta da certi illustri opinionisti che avevano parlato di boiata pazzesca la vulgata era quella che noi volevamo processare il reato di trattativa noi abbiamo contestato il reato di minaccia al governo da parte dei mafiosi minaccia portata avanti attraverso le bombe e i ricattis noi continuiamo a fare le stragi se voi non ci date questo gli uomini delle istituzioni che abbiamo imputato rispondevano di concorso perché ritenevamo che avessero fatto da cinghie di trasmissione tra i mafiosi e tre diversi governi questa sentenza della Cassazione arriva a dire e per questo derubrica in tentativo il reato contestato dai mafiosi e per questo dichiara la prescrizione dei reati pure nei confronti dei mafiosi che la minaccia non era stata percepita dalle istituzioni la minaccia è un reato di pericolo non è necessario che si verifichi l'evento che i minaccianti vogliono che si verifichi è sufficiente che il governo le istituzioni abbiano percepito quella minaccia come fa a dire la Cassazione ma lo dice che questo non è avvenuto quando lo ricordo anche nel libro riportando testualmente la trascrizione delle parole della testimonianza del Presidente della Repubblica Napolitano all'udienza del 28 ottobre 2014 lo stesso Presidente Napolitano all'epoca delle stragi Presidente della Camera dei Deputati affermò tutti i vertici delle istituzioni sapevamo avevamo perfettamente chiaro il fatto che le bombe quelle del 93 erano il frutto di un ricatto mafioso di un out-out così si esprimeva il Presidente Napolitano nei confronti dello Stato per alleggerire per esempio il carcere duro chiaro dottor Di Matteo il tempo è scaduto il tempo suo non è stato sprecato comunque quello dietro alla trattativa ma guardi io così come gli altri colleghi che con me hanno lavorato abbiamo parlato tanto siamo assolutamente sereni e consapevoli di avere fatto il nostro dovere con grande rischio anche per diciamo la carriera futura ma non importa il magistrato non deve mai aspirare alla carriera nel senso comune del termine e con la consapevolezza di avere comunque fatto emergere avere dato un minimo contributo per aver fatto emergere dei fatti storici che le persone che il Paese deve conoscere che noi comunque nei libri di storia valuteremo anche per la loro rilevanza appunto politica se non penale e che la sentenza della Cassazione non riuscirà ad eliminare nella loro oggettiva esistenza grazie dottor Di Matteo per essere stato con noi grazie ci vediamo tra pochissimi minuti tra pochissimi minuti torniamo qui perché questa faccenda dei 30 all'ora si sta sfuggendo di mano nel senso che anche a Roma si estenderà altre 70 zone intanto Fleximan sega gli autovelox c'è una protesta che monta e poi c'è la protesta dei trattori che diciamo in qualche maniera si collega a questo clima che c'è nel Paese insomma di rivolta verso delle regole che appunto non sono state digerite da un pezzo importante della nostra popolazione ci vediamo tra pochissimi minuti allora eccoci qua in furia in furia la battaglia sulle strade italiane sono due le battaglie di cui ci occupiamo stasera quella dei trattori che iniziano a bloccare anche in Italia moltissimi caselli molti svincoli come in Francia e in Germania come è successo oggi a Bruxelles ma poi c'è anche la battaglia la ribellione di un pezzo di ceto diciamo produttivo italiano contro gli autovelox contro i limiti anche perché dall'altra parte c'è invece un'offensiva di molti sindaci è partito a Bologna l'Epori con i limiti del 30 all'ora oggi abbiamo saputo che anche il sindaco Gualtieri da Roma pensa di estendere a 70 zone i limiti di 30 poi arriva la direttiva del ministro Salvini che cerca di limitare l'utilizzo diciamo dei 30 all'ora solo a determinate strade a mettere dei perimetri la gente comunque è arrabbiata nera perché spende un sacco di soldi in queste multe spesso magari viaggiando a 35 anziché a 30 in una strada che gli sembra perfettamente percorribile a velocità più alte insomma ce ne siamo occupati settimana scorsa ma abbiamo visto che c'è un grande grande interesse delle persone su questo tema allora buonasera all'onorevole Alessandra Moretti era parlamentare del Partito Democratico tra l'altro Veneta proprio di quelle zone dove infuria la rivolta e dove c'è questo mitico mitologico Fleximan che è quello che taglia gli autovelox con il frullino poi abbiamo l'onorevole Vittorio Baldino del Movimento 5 Stelle buonasera e bentornata anche a lei l'onorevole Alessandro scusi sì Alessandro Cattaneo di Forza Italia buonasera è venuto anche a lei Francesco Borgonovo vice direttore della Verità e poi c'è Diego Fusaro filosofo buonasera anche a lei in collegamento c'è Tonia Mastroboni corrispondente Repubblica dalla Ligia Germania dove ci sono i trattori e dove invece sulle autostrade tedesche si può viaggiare anche a 300 dove non ci sono i limiti perché dove ci sono i limiti si rispettano però dove non ci sono si viaggia e ci darà un po' il suo polso direi però di cominciare subito con la caccia a questo Fleximan ma soprattutto al tipo di favore anche di omertà in qualche maniera di cui gode nelle zone in cui opera perché si capisce benissimo che un po' come con la mafia si sa chi è ma nessuno lo denuncia vediamo Max Andretta siamo lungo la strada del Piovego in Villa del Conte qui il limite è 70 tra il 22 e il 23 gennaio Fleximan è arrivato e ha segato in questo punto ha lasciato traccia con il cartello Fleximan sta arrivando è successo due sere fa nel mio comune dove? a Darino non credo fosse il Fleximan originale ma probabilmente un fan probabilmente o ne ha prese tante di multe lui abbiamo pensato questo mi ribello in questa maniera e quante multe avete ricevuto? in un anno credo che almeno 300 euro di multe ma multe non il limite è 50 vado a 130 però il limite è 50 e sono a 63 ringrazio se Fleximan mi ha tolto uno di quelli lungo la strada magari mi ha salvato una multa secondo me Fleximan non è una persona sola è un'idea perché ci sono persone che hanno il coraggio di fare certe cose contro uno stato che non ha più rispetto per niente per nessuno questa mappa indica i punti in cui è intervenuto Fleximan per abbattere gli autovelox siamo in provincia di Padova e in questo momento stiamo cercando di restare entro i limiti dei 50 all'ora uno sta sorpassando eccolo qua striscia continua guardalo ha anche rischiato di venirci addosso nella notte tra 9 e 10 di agosto dell'anno scorso qualcuno ha posizionato dell'esplosivo la fiamma sale perché corre lungo il tubo e lì è vuoto e gli ha dato fuoco e ha esploso ho visto di chi è l'estate sì e a che ora ha messo questa polvere alle 9 di sera e a che ora è esploso alle 9 e 5 quello che non capirò mai è perché questa strada che è all'argine non ci sono scuole non c'è nessuno metti 70 no sono dei pezzi di merda e ha fatto bene buttare la bomba ha fatto bene e lei ha visto la persona che ha messo la bomba lì sì è uno che se guardate bene è in comune sanno chi è il mistero dei sabotatori comunali nelle varie ipotesi che sono girate in questi mesi è una di quelle che è girata si è dimesso il comandante dei vigili si è dimesso un assessore al bilancio del comune di Cadone che per questo motivo qua è quella mia parte sopra è il terzo piano lei abita proprio sopra all'autovelox se vede benissimo da qua è un uomo da 45 50 anni era robusto secondo me c'era un uomo e una donna hanno comandato lo scoppio dall'algine e poi si sono delegati non è che il giorno dopo avete visto qualcosa nessuno ha chiesto niente quando è entrato in funzione Fleximent è entrato in funzione a fine maggio quindi a fine maggio l'ha segato e l'hanno rimpiazzato e poi l'hanno segato di nuovo esatto e adesso hanno aggiunto i sensori e le telecamere per evitare che qualcuno vada a segarlo di nuovo sì effettivamente fischia dovrebbero arrivare i carabinieri quindi hanno messo l'allarme all'autovelox per disincentivare Fleximent piano vada piano perfetto nessuno sa niente a un certo punto fioccano multe a nastro 10 20 30 40 multe finché non arriva Fleximent ecco sì io giro tutta l'Italia non ho mai preso multe mai prese le prendo tutte qua ho preso la multa 19 di maggio hanno fatto 17 mila verbale in un mese e mezzo io stavo andando ai 65,92 all'ora quel limite di 50 lei queste sanzioni le ha pagate? no perché non è omologato e di fatto io ho vinto un ricorso e lo strumento utilizzato nel caso di specie risulta approvato ma non omologato non è omologato e quindi per questi motivi accoglie il ricorso sì annulla i verbali impugnati secondo ecco questa è la presa ha preso la multa sicuramente qua moltissime persone si lamentano di questo autovelox e delle moltissime multe che non ricevuto scusi secondo lei se uno prende 30 multe c'è bisogno di confrontarci 30 quanto ha reso al comune questo? questo non so perché veramente non chiedo neanche quanti soldi avrà visto qual è la voce delle multe ogni comune ha la voce delle multe quando facciamo il bilancio vedremo quanti soldi c'è una signora che ha fatto il ricorso e qui c'è un giudice che dice che non è omologato allora il giudice di pace dice così il tribunale che abbiamo avuto una sentenza tre giorni fa quattro ha detto che va bene anche senza omograzione ma con l'approvazione ci sono anche sentenze di Cassazione che invece dicono che l'omograzione è necessaria andiamo con calma adesso se no se no no magari ma bisogna? sì per una rateizzazione di multe per l'autovelox qua signora anche lei? sì adesso sono venuto a rateizzarne perché eravamo arrivati a 700-800 euro che dice lei di quest'autovelox? che è una cattura posso dire? una cattura? una cattura che senso? perché è difficile fare il 50 sindaco dove scappa? non lo so cosa dice lei di questa cattura? aspetta un po' aspetta un po' e no venga a rispondere alla signora lei del comune sì sì è il suo sindaco sì lei l'ha votato? sì e lo rivoterebbe? se non tira via che l'affare lì no il sindaco se ne va capita di non sentire per me i segnali stradali o gli avvisi che ci sono sono legge devono essere rispettati proprio per la sicurezza sia nostra che degli altri si autovelox vanno lasciati dove sono secondo te nel posto sbagliato vai a protestare ma non lo segui perché uno dopo corre e si ammazza può ammazzare qualcuno che la velocità ha ammazzato mio figlio Daniele aveva 23 anni e al termine di una serata in discoteca aveva accettato un passaggio a casa da un amico in una curva l'auto è andata giù e si è capottata era accartocciata la macchina chissà che velocità andavano quando uno si lamenta che è arrivata una multa magari fosse arrivata una multa io adesso chi corre per strada chi non ha rispetto ai limiti mi fanno una rabbia tremenda 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 perché non riescono a capire che quando fanno perdere la vita una persona distruggono una famiglia distruggono una famiglia se potesse parlare con Fleximan lì direi sei uno stronzo e vai a rompere la roba dentro a casa tua tu hai preso una multa potevi andare più piano c'è Sergio Barbieri che è in collegamento c'è in provincia di Mantova ecco Barbieri questo signore qua che mestiere fa lei? io facevo l'autista buonasera innanzitutto 35 multe in 36 giorni 3500 euro meno 39 punti di patente insomma però ci va pesante lei perché 35 multe in 36 giorni non è non è una sbatataggine diciamo cioè lei è non è plurirecidivo è proprio un serial un serial killer degli autovelox degli autovelox ma come come ha fatto? è semplice non era non era segnalato perché il comune di Giacciano ha installato questo autovelox e solamente dopo 4 mesi ha messo la segnalazione e c'era questo punto questo autovelox pertanto fuori paese finito il limite dei 50 e uno come fuori paese inizia a accelerare è sempre stata una strada da 70 all'ora e tutto da un colpo trac ecco 50 all'ora con il velox ma i 50 all'ora lo sapevano loro ma lei mica le ha pagate allora le multe le ha pagate le multe ma scherziamo ma scherziamo altrimenti me le raddoppiano me le triplino io le ho già pagate tutte ma è legale se non sono segnalate è legale se non sono segnalate le multe i velox se i velox non sono legali no non è legale perché deve essere segnalato io devo sapere quindi lei che ha fatto ha fatto ricorso sì noi io adesso sono in una società che stiamo facendo questa cosa qua un ente che controlla queste cose e abbiamo anche altre altre diciture ecco perché se mi permette ad esempio intanto il velox che non è omologato non so il perché sia ancora lì perché c'è tanto di articolo di legge che dice che non può essere installato non riesco a capire il perché sia stato installato in quella posizione che quando è stata fatta una richiesta la richiesta ad esempio il sindaco che ho visto prima anche ha dichiarato 47 incidenti in 5 anni ma in quei 47 incidenti lì noi abbiamo carta alla mano che si riferisce a tutte altre strade perché via Roma quindi non è sulla strada provinciale quindi non è lì quindi non è lì insomma non è dove hanno messo poi l'autovelox ombra diciamo così scusami negli ultimi sei anni in quel tratto non è successo niente Tonia Tonia Mastrobuoni vorrei diciamo un tuo sguardo un po' marziano diciamo visto che stai a Berlino in un paese molto ordinato cioè è una battaglia politica in vista delle europee questa sugli autovelox cioè che partita si sta giocando oggi in Italia su queste macchinette e intorno a questo Frexman che concordo secondo me non è uno solo ma è chiaramente ormai un movimento diciamo collettivo di protesta beh Corrado forse l'hai detto anche tu all'inizio c'è un collegamento tra i trattori in piazza poi credo che ne parleremo e la battaglia ai 30 all'ora che è stata non a caso la Lega ha preso immediatamente spunto da tutte e due per dire da che parte sta cioè con i trattori e naturalmente con chi lotta contro i 30 km orari la Germania è un paese un po' ipocrita da questo punto di vista no? perché anche io ho beccato un sacco di cioè un sacco tre quattro multe in queste stradine della Sassonia del Mecklenburgo Pomerania quando andavo a fare dei reportage con la macchina a noleggio perché lì anche sono molto severi tu vedi queste sconfinate strade di campagna dove non c'è niente e magari non ti accorgi del cartello 70 km all'ora e le paghi però ovviamente perché poi i tedeschi sono abbastanza inflessibili anche nella riscossione il problema qual è? che come dicevi tu la Germania ha un'assoluta ideologica contrarietà al limite di velocità in strada perché? perché ovviamente il cuore della sua industria è l'industria automobilistica però poi c'è il grande paradosso che da 40 anni a questa parte cioè quando l'esperimento fu introdotto a Buxtehude in bassa Sassonia i 30 km orari in tante grandissime città e piccole città sono una realtà io vivo a Berlino da 10 anni da 10 anni non ho la macchina però appunto da 10 anni a Berlino le strade con i 30 km orari sono cresciute fino a rappresentare adesso il 60-70% di tutta la rete non c'è mai stata una rivolta cittadina su questo? guarda c'è stata una rivolta ci sono ovviamente alcuni negozianti per esempio nella centralissima Friedrichstrasse che è diventata quasi pedonalizzata che è una lunga arteria molto centrale vicino al famoso boulevard unter den Linden quello che attraversa la città quella è una strada tutta di negozi grandi magazzini eccetera è quasi pedonalizzata e quindi lì c'è stata un po' la protesta dei negozianti però i tedeschi fanno i conti da 40 anni con i 30 km orari e non ci sono state assolutamente né partiti neanche la FD si è mai sognato di rivoltarsi contro i 30 km orari invece qua c'è Salvini qua c'è Salvini Francesco Borgonovo è una battaglia che esplode guarda caso sotto le europee ma dovremmo immaginare che Salvini sia il mannante di Fleximan o egli stesso Fleximan che potrebbe data la descrizione del signore ha detto che era uno robusto potrebbe anche essere però non ce lo vedo diciamo nel nottetempo a andare a segare gli autovelox lì ci sono due questioni distinte un conto è la questione dei 30 all'ora che in Italia non ha alcun senso non fa aumentare dove è stato fatto in Sardegna abbiamo dei dati che non fa diminuire gli incidenti viene fatto in città dove peraltro nei centri storici si va già a una velocità minore a Bologna a Milano la velocità è molto inferiore anzi questo causa dei problemi a livello ambientale causa dei problemi ai tassisti che poi protestano causa problemi a quelli che devono circolare quindi non serve è una misura ideologica e basta per motivi in parte ecologici diciamo così perché allora uno io credo che dietro ci sia l'idea semplicemente di disincentivare l'utilizzo della macchina allora sarebbe più giusto dire noi ti disincentiviamo a utilizzare l'auto perché tu hai la Zora 30 all'ora le ZTL Gualtieri adesso qualche tempo fa ha accantonato ho rinviato l'idea ma c'era l'idea di fare la ZTL a Roma a Milano ci sono dei pedaggi pesanti che disincentivano è più onesto dire è più onesto dire non dovete usare la macchina però che potrebbe anche andare benissimo voglio dire potrebbe anche andare molto bene se non fosse che a me pare una misura uno per incentivare l'utilizzo del car sharing elettrico all'interno delle città e che insomma è un guadagno per qualcuno e due se si potenziassero i mezzi pubblici cosa che in alcuni posti non si può fare in altri non avviene perché per esempio a Milano tagliano i mezzi pubblici c'è un tema ci dicano ci dicano cosa ci dicano cosa vogliono fare cosa dicono i dati mostro voi no i dati dicono altro molto cioè è molto diverso è vero quello che dice Borgonovo che un punto cruciale sono i mezzi pubblici ovviamente a Roma per esempio non funzionano e quindi però ci sono dei dati anche di lunga durata per esempio in Gran Bretagna hanno studiato per 20 anni i 30 km orari applicati a molte strade gli incidenti sono calati dal 20 al 30% in Germania gli incidenti mortali sono calati del 70% nelle aree a 30 km orari quindi non è vero quello che dice lei ci sono dei dati che già dicono che gli incidenti sono assolutamente crollati nelle zone in cui si introduce ma anche se togliamo gli automobili crollano gli incidenti gli incidenti d'auto capisce il problema naturalmente ci sono anche se mi fa finire naturalmente ci sono anche dei motivi ecologici perché è vero quello che dice Borgonovo una delle ragioni è che diminuisce il CO2 le emissioni appunto tossiche delle automobili e l'inquinamento acustico questo è verissimo però innanzitutto diminuiscono gli incidenti questo è statistico l'hanno fatto ad Olbia e non è successo anzi sono aumentati evidentemente la Gran Bretagna è organizzata diversamente una cosa ad Alessandra Moretti questa è una battaglia che è stata cominciata da un sindaco del PD anche molto popolare che è il sindaco di Bologna Lepore adesso lo vuole fare i quartieri io mi permetto di osservare una cosa non è una delle più popolari delle battaglie soprattutto sotto elezioni quella dei 30 all'ora anche perché io sono abbastanza convinto da appassionato guidatore che se si rispettassero i limiti che già ci sono sarebbe un crollo degli incidenti cioè se si andasse a 50 dove si deve andare a 50 a 70 dove si andasse a 70 a 90 gli incidenti sarebbero molti di meno perché tutti gli incidenti avvengono su velocità largamente superiore a quelli che sono dei limiti allora questo 30 sembra un po' un dovete soffrire di più la sinistra ce l'ha un po' questa cosa un po' caracchiri un po' direi si un po' potete soffrire di più dobbiamo educare a non prendere la macchina allora a casa al palocco ammazzi un bambino e non va in galera e questo vabbè un altro tema Moretti direi questo la premessa è questa che tra le ragioni di Fleximan e le ragioni della mamma di Daniele io so dalla parte delle ragioni della mamma di Daniele nel senso che per me un buon amministratore un buon sindaco è quello che tutela in primis la salute e la vita delle persone in considerazione dell'alto numero poi di decessi sulle strade dopodiché se noi trasformiamo in un idolo un uomo vigliacco che nell'ombra e nel buio commette dei reati allora noi scivoliamo verso la società del più furbo del più forte e questo secondo me è un messaggio bruttissimo e negativo ed è vergognoso che la politica e un ministro come Matteo Salvini la cavalchi perché la norma sui 30 l'ha fatta lui e l'ha pure finanziata con 13 milioni e mezzo e adesso fa una norma contro la norma che ha fatto lui allora ha ragione quando la collega dice che i dati sono questi io vivo in parte anche a Bruxelles e a Bruxelles ci sono i limiti 30 in alcune zone della città è chiaro che in parte può avere anche ragione Borgonovo quando dice sareste più onesti nel dire disincentiviamo l'uso della macchina però c'è da dire anche che con il PNRR europeo abbiamo dato risorse per le infrastrutture per i trasporti pubblici locali per l'elettrificazione che non ne vedrete più di tutte queste risorse diceva Gattaneo dobbiamo dirci anche la verità molti di questi strumenti non vengono fatti per dare garanzie a chi guidatore ma per fare cassa perché molti bilanci dei comuni usciamo dalla retorica della demagogia sono fatte anche perché per chiudere i bilanci qualche comune non va bene chi lo fa lo fa mettendo il Velox e tanti altri strumenti tra l'altro si sono moltiplicati perché c'è queste magari iniziative che ti mettono il 50 all'ora in una strada dove prima era 70 ma ci sono anche le ZTL mal segnalate chi non ha preso una multa perché si è infilato in una ZTL ci sono gli scanner per chi è in divieto di sosta i vigili non scendono neanche più dalla macchina basta migliorare un po' la comunicazione l'informazione voglio dire no 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 il rosso stop se tu per caso non vedi un giallo o per qualche frazione di secondo vai un po' più in là dello stop prendi la multa cioè si sono moltiplicati tutti questi strumenti e diciamolo spesso vengono fatti per fare cassa peggio c'è una legge che vincolerebbe utilizzare i soldi degli introiti delle multe per fare investimenti sulla sicurezza stradale io non lo so ma io quando vado in Germania ci vado spesso molto spesso e viaggio in autostrada anche veloce c'è un asfalto Tonia che ti rimane appiccicato sotto le gomme perché questo asfalto noi ce l'abbiamo tipo in un 10% 20% della rete autostradale quell'asfalto loro ce l'hanno dappertutto in città non ne parliamo allora vogliamo spendere questi soldi per questo asfalto ci sono poi dopo mettiamo i limiti se volete però intanto spendiamo i soldi per far schiantare la gente quando piove i soldi delle multe c'è una legge che vincolerebbe utilizzarli in una misura percentuale rilevante nel fare sicurezza le autostrade evidentemente ai gestori ma anche sul livello della città è più comodo scrivere 30 all'ora in quella via il sindaco ci mette mezza giornata i gestori si prendono i soldi in autostrade ma gli asfalti buoni come i tedeschi non ce l'hanno e in Germania non si paga l'autostrada tra l'altro i pedaggi sono appena aumentati e poi voglio sentire Fusaro su questo partito dell'ordine dei 30 all'ora cosa pensa? guardi io guardando il suo servizio pensavo che una comunità dove c'è il sospetto che il sindaco metta gli autovelo per fare cassa non è una comunità sana una comunità dove c'è una faida tra cittadini che si sentono vessati e il sindaco che si difende non è una comunità sana una comunità dove si considera un idolo un supereroe un vandalo perché stiamo parlando di un vandalo dobbiamo dirlo non è una comunità sana e io penso che bisogna smetterla di essere ipocriti e bugiardi perché noi abbiamo visto il ministro Salvini che sta cavalcando questa protesta e sta mettendo la felpa di chi difende estrenuamente i cittadini vessati dallo Stato ma oltre ad aver scritto e finanziato una direttiva che promuove le zone 30 il ministro Salvini ha fatto da poco un nuovo codice della strada che sa che cosa prevede prevede l'approvazione degli apparecchi di rilevazione della velocità degli autovelox non omologati se oggi quella signora ha potuto vincere dal giudice di pace in tribunale perché i apparecchi omologati non possono essere installati e quindi non ha pagato la multa adesso nel nuovo codice della strada Salvini autorizza l'applicazione degli autovelox non omologati quindi dico da chi li difende Salvini i cittadini da se stesso il problema è che prima di cavare una protesta a Borgonovo bisognerebbe capire che cosa si firma e bisognerebbe capire in quale direzione si vuole andare però non è il problema Salvini il problema è il cittadino che continua a prendere delle multe concludo dicendo una cosa gli strumenti di rilevazione della velocità servono per tutelare per garantire sicurezza stradale purtroppo non sempre il tema qual è bisogna garantire ad esempio il tutor è uno strumento migliore a mio avviso dell'autovelox perché calcola laddove ci sono strade magari molto pericolosi io faccio l'esempio da me c'è una strada pericolosissima che è la strada stradale 106 dove l'autovelox è molto utile perché rallenta il traffico e una delle prime cause di incidenti lì è proprio l'eccesso di velocità però è utile il tutor perché calcola ad esempio una velocità media non ti fa la multa rilevando la velocità a cui vai ma non devono essere strumenti che servono ai comuni per fare cassa ai comuni per fare cassa ci serve il governo che stanza i soldi da rivoluzionario vero è un fan di Fleximan scommetto mi piace questo uomo con la fresa lì col frullino diciamo che in un'epoca anti-eroica come questa passa per eroe anche il Fleximan di turno però diciamo subito che commette un illecito oltretutto a documento della comunità dato che gli autovelox bene o male sono pagati con i soldi pubblici però è anche il segnalatore di un problema evidentemente Fleximan che mi ricorda anche la figura dell'uomo flessibile di un libro come anni fa in un altro senso però naturalmente segnala un problema cioè il fatto che questi autovelox la domanda da porre è servono a proteggere la salute o servono a spillare soldi ai cittadini perché qui è il nodo problematico della questione su cui Fleximan esiste ed è per questo che ottiene i consensi di tutto cioè la tassa occulta per rifare poi le strade almeno viviamo in un'epoca paradossale il filosofo Viriliove ha coniato la formula dromomania cioè la mania della velocità è la cifra del nostro tempo in cui tutto va in fretta veloce però poi c'è l'idea di normare la velocità e imporla in maniera misurata fino ai 30 all'ora e questo è un altro problema quello dei 30 all'ora ora personalmente distinto dalla questione di Fleximan il limite dei 50 è già un limite tutto sommato abbastanza protettivo i drammi arrivano quando qualcuno va veloce superando i 50 nelle città lo dico scusate è un tema che mi appassiona lo dico anche per una questione che è questa che le automobili di oggi sono molto diverse dalle automobili anche solo di 10 anni fa oggi c'è un'automobile che tu l'accendi non riesci frena da sola si sposta da sola se arriva al pedone cioè sempre di più andremo verso macchine che a 50 all'ora sono molto più sicure di quanto lo erano a 30 all'ora solo 10 anni fa quindi il tema scusate lo dico ed è sembrerebbe sono un uomo molto attento alle regole ma mi sembra che siamo in un paese in cui aggiungiamo regole aggiungiamo regole aggiungiamo regole senza far rispettare quelle che già ci sono abbiamo codice della strada che credo sia il più severo fatto da Salvini il più severo d'Europa tra i più severi poi vai a Roma no? e dici ma altro che 30 all'ora dove Gualtieri vuole mettere i sindaco lei vuole mettere i 30 all'ora in 70 zone guardi che succede a Roma e infatti Andretta la settimana scorsa vi abbiamo mostrato quel che succede in una giornata qualsiasi nel traffico di Roma di lei parcheggia sulle strisce ma chi cazzo ha parcheggiato la camera chi cazzo è una videochiamata che cos'è cartellino rosso e me lo prendo tutto non ci si può stare qua ma se pensavate di aver visto tutto questo è il camion delle consegne fermo sulle strisce a cavallo dell'incrocio e così se uno deve girare non vede niente capito? io devo fare il mio lavoro come si fa a fare le consegne a Roma con questo traffico? a Roma l'unico problema sono i vigili sono i vigili il problema perché? dove ti metti non va bene ma noi non abbiamo un posto per mettere ti metti così scarichi a alta velocità e te ne vai alta velocità e il signore sulle strisce buongiorno la telecamera gli ha fatto cambiare idea il signore fa retromarcia e abbandona le strisce pedonali e qua troviamo una macchina parcheggiata proprio sulla scritta stop e davanti a lei un'altra station wagon che occupa l'incrocio è sua? una volta no certo però si capisce che così poi è difficile se tutti quanti facciamo così siamo davanti a una seconda fila va fortissimo la seconda fila col cellulare è vietato stare in doppia fila no no non faccio così si fa no no fatti e quello davanti è passato col rosso guarda il taxi è partito col rosso eccola qua signora siamo all'incrocio è pericoloso col giulare sono 400 euro di multa e 15 giorni di sospensione questo è il cartellino rosso per chi usa il cellulare alla guida l'abbiamo vista col telefono in mano da prima signora ora è verde si è distratta il semaforo verde si è distratta cosa fa lei insegna che cosa educazione civica ma questo è un passo carrabile però questo è un passo carrabile che è per il prestigio del palazzo però questo è comunque un dito di sosta se noi dove ci mettevamo la macchina purtroppo se ci mettiamo lì ostruiamo la corsia di canalizzazione lì abbiamo fatto le murte là in seconda fila lei mi dice che giustamente non ci si può stare però se uno vede il vigile indietro di sosta poi dice faccio quello che voglio ma lei no come vigile di Roma come si sente quando vede che il traffico va così? mi dispiace perché sono anche un cittadino non so se è vigile 24 ore io prendo la macchina prendo i mezzi ma parcheggia così anche con la sua macchina? qualche volta tornando dalla notte lavorativa ho parcheggiato male me l'hanno pure rimossa per il diritto di sosta? c'è una sanzione di? 29 euro e 40 42 se non li paga 105 giù esatto quindi adesso io dovevo fare una multa da 42 euro a me dovevo fare una multa allora allora le do un cartellino giallo pure lei non c'è speranza Baldino voi siete il partito delle regole qua della legalità Roma non è la Germania sei di Roma adegua ti dice il guidatore abbiamo capito il problema vero è che a Roma ci sono troppe macchine perché i mezzi pubblici non funzionano bene quindi le persone sono incentivate giustamente a spostarsi in auto perché con i mezzi obiettivamente è una giungla sì ma insomma se vuoi Gualtieri se mette i 30 all'ora altre 70 zone rischiano veramente di andarla a cercare sotto casa anche la Raggi ha fatto qualche iniziativa quella via del Tritone una via che è stata allargata per aumentare la sicurezza dei pedoni e quant'altro morale fila perenne gas aperti a tutta carica particolato che gira allora prima di andare sui trattori che sono l'altra parte la coda diciamo anche un po' più minacciosa di questa situazione perché abbiamo visto le scene a Bruxelles oggi voglio un flash finale da Tonia Mastroboni su questo tema e dal nostro Barbieri prima di salutarlo Tonia ma Roma è un caso veramente estremo perché era stupendo il vostro servizio però Roma ha due linee della metropolitana città da milioni di abitanti unica al mondo e quando apriranno la terza penso che sarà già un reverto archeologico perché ci stanno mettendo decenni li andranno per aria quando noi li mettiamo sotto terra io ci provo io ci provo a prendere i mezzi a Roma veramente perché ho anche il vantaggio di stare al centro quando sono a Roma ma è veramente un'odissea io ogni volta ci metto tutta la mia buona volontà però voglio dire questo non significa che non si debbano rispettare mai le regole ci sono dei momenti in cui uno può prendere un quarto d'ora in più per cercare un parcheggio ormai anche a Berlino i miei amici che hanno la macchina dicono si parcheggia malissimo non si parcheggia in alcuni quartieri però insomma è chiaro che siamo il paese dalle mille regole ma appunto farle rispettare è tutta un'altra storia Barbieri vuole dire un'ultima cosa prima di andare a prendersi la sua prossima multa? sì guardi io vorrei dire soltanto anzi io avrei due piccole cose che potrei soltanto dire che molto probabilmente ci siamo scordati di un punto molto importante riguardo Fleximin questo eroe diciamo chiamiamolo così che è stato creato dalle istituzioni perché se non ci fossero state queste cose diciamo non regolari molto probabilmente non sarebbe mai esistito perché i Velux è da anni che ci sono è solamente da quando fanno questa situazione che è un po' bugiarda riguardo gli autisti e un'altra cosa sarebbe anche riguardo gli incidenti che dicono che riguarda la velocità che toglie gli incidenti guardate che se fate un calcolo il 70% degli incidenti non succede più per le velocità cioè c'è un traffico talmente che uno non riesce ad andare ma è per ebrezza stupefacenti telefonino se voi guardate gente che legge il giornale mentre va in macchina ecco dove ci sono gli incidenti ma dopo vedete io vi ho detto solamente come risultano le cose che leggono il giornale pochi più facile sul telefonino leggono il giornale sul telefonino doppio danno capito non solo disincentiva una carta stampata fanno chiudere le elicole e si schiantano una cosa drammatica che è vera adesso scusate ero buon minuto però noi abbiamo città dove nei centristorici veramente si fa 10 all'ora voi avete fatto vedere Roma ma Milano non è tanto meglio Milano non ci sono parcheggi gratuiti ovunque c'è un traffico che non si gira i mezzi pubblici sono danneggiati da questo e come gli incidenti avvengono perché ci sono rider che sfrecciano dappertutto persone che vengono incentivate ad andare su piste ciclabili che sono come fare la Lorette russa uno va in Buenos Aires a un certo momento viene buttato su piazzale Loreto con le auto che arrivano vediamo chi 100 punti chi prende il ciclista è chiaro che funziona così perché è una visione ideologica che si sovrappone a città che non sono quelle del nord Europa e tanta inciviltà comunque no tanta inciviltà diffusa voglio dire la mancanza di rispetto i mezzi pubblici funzionano un po' meglio che altrove il paradosso è che i ceti popolari sono quelli più penalizzati vorrei dire una cosa Cattano vorrei dire una cosa però che voi a furia di rottamare le cartelle e di condonare le multe uno anche la multa non è più una sanzione che fa paura perché la gente non la paga aspetta che tra tre anni arriva un altro condono e non le paga non è così è diverso le multe purtroppo si pagano e si pagano tanto la vittoria dei furbi sugli onesti perché la politica del condono è questa io ti salvo anche se non hai rispettato ma no ormai chi le ha sempre pagate le tasse viene ben fatto e lo Stato perde credibilità allora Chiara Proietti è da stamani che sta cercando di capire se riesce a parlare con dei camionisti scusami degli agricoltori che stanno facendo un blocco quindi adesso c'è la Saspas non si capisce se ci parlano o non ci parlano Chiara dove sei? Sì noi Corrado allora noi siamo esattamente al confine tra Siena e Arezzo a 500 metri da noi c'è il casello dell'autostrada A1 Valdichiana e io sono nel mezzo di un presidio vedete qui qui ci sono circa 150 trattori degli agricoltori della zona che sono in presidio da martedì sono qua da sola perché poco prima che iniziassimo la diretta hanno indetto un silenzio stampa che tra poco vi spieghiamo che cosa vuol dire noi cercheremo comunque di vedere se qualcuno viene a parlarci e a spiegarci cosa sta succedendo dovete capire che il clima è caldo qui c'è tanta rabbia delusione perché la protesta poi in Italia è entrata nel vivo quella dei trattori proprio questa settimana era iniziata in realtà due settimane fa in Germania poi è arrivata in Francia come dicevi tu oggi a Bruxelles hanno marciato 1300 trattori sulla capitale proprio nel giorno in cui c'era un vertice straordinario della commissione proprio perché il messaggio arrivasse forte e chiaro a Bruxelles del consiglio e vi raccontiamo vi racconto in un servizio come è nata questa protesta e che cosa è successo in questi giorni in Europa allora vediamo cosa è successo in Europa e poi cerchiamo di capire se ti parla qualcuno e iniziamo a parlare di quali sono queste ragioni vediamo vediamo proietti 100.000 agricoltori tedeschi scendono nelle piazze bloccano le autostrade inizia così la protesta dei trattori che arriva fin sotto la porta di Brandeburgo in Germania la miccia si accende dopo che il governo annuncia il taglio dei sussidi al gasolio agricolo in un paese che vive una contrazione dell'economia la protesta dilaga dopo la Germania si mobilita la Francia con blocchi stradali copertoni incendiati e letame contro le prefetture il nemico comune degli agricoltori europei è il Green Deal un piano per arrivare a zero emissioni entro il 2050 in tutta Europa per raggiungere l'obiettivo una parte dei sussidi della PAC la politica agricola comune europea viene destinata alla lotta al cambiamento climatico gli agricoltori continueranno a ricevere i sussidi che rappresentano il 30% dell'intero bilancio europeo ma dovranno sottostare ad alcuni obblighi come quello di lasciare a riposo una parte dei terreni e dimezzare l'uso dei pesticidi entro il 2030 nemmeno le parole del neoprimo ministro francese Attal riescono a fermare gli agricoltori francesi che iniziano l'assedio di Parigi con 8 punti di blocco intorno alla città questa è l'autostrada a 6 siamo a 19 chilometri a sud di Parigi ci sono 120 trattori siamo tutti agricoltori molti vengono dal sud della Francia guarda siamo bloccati qui da ieri ci siamo organizzati con i bagni e un generatore qui cuciniamo e mangiamo molte persone ci sostengono passano tante macchine che suonano il clacson per incoraggiarci a 200 metri da noi ci sono due carri armati della gendarmeria hanno l'ordine di non farci avanzare per raggiungere Parigi abbiamo capito che più in là di così non ci fanno andare queste nuove regole europee alimentano la concorrenza sleale per noi sarà una catastrofe la destra sta cercando di cavalcare la vostra protesta non ci interessa la politica non siamo i gilet gialli sono venuti rappresentanti di tanti partiti diversi anche perché tra poco ci sono le elezioni europee ma non vogliamo essere rappresentati da nessuno vogliamo solo portare avanti le nostre richieste sai che anche in Italia gli agricoltori si stanno mobilitando hai un messaggio da inviare ai tuoi colleghi italiani? siamo tutti sulla stessa barca ai miei colleghi italiani voglio dire che dobbiamo essere tutti uniti e difendere la nostra agricoltura un'agricoltura produttiva e che possa nutrire noi europei siamo stanchi vogliamo la sovranità alimentare sovranità agricola da pochi giorni la protesta ha contagiato anche l'Italia sono agricoltori di Vercelli Novara qualcuno del Pavese però sono veramente veramente tanti la protesta in Italia parte dal comitato degli agricoltori traditi guidati da Danilo Calvani agricoltore di Latina e leader del movimento dei Forconi molto vicino alla Lega di Salvini cari agricoltori che stiamo lottando da tutte le parti non facciamoci imbavagliare come è successo dieci anni fa poi i blocchi dei trattori dilagano ovunque Mantova Cagliari Verona Foggia Rieti noi siamo la pianura più fertile d'Italia le sembra che in Europa devono dirci che ci pagano pur di non coltivare questa è un'assurdità totale chi ci governa non sa neanche di cosa parliamo in Italia però in questo momento c'è uno dei governi più sovranisti degli ultimi anni il governo per ora non si è schierato e non è se ci parla di IRPE e di agricoltura non è sicuramente dalla nostra parte dopo giorni di silenzio il governo italiano si muove e il ministro Lollo Brigida che dall'inizio ha strizzato l'occhio alla protesta incontra gli agricoltori quando avete un tricolore so che non c'è gente pericolosa a sventolarlo questa è la ragione per la quale ho preferito venirvi a salutare di persona non dovreste essere i primi che sono a favore di politiche green si fate bene fate bene green fatto bene sono d'accordissimo green fatto bene rispettoso ma è un green che prende in considerazione anche quali sono le reali esigenze di un territorio non puoi applicare un green uguale in tutta Europa l'Europa ci impone la qualità la qualità ci impone delle precise osservanze perfetto però poi alla fine se riduciamo la produzione l'ettaraggio della nostra produzione la stessa comunità europea l'Italia in questo caso andrebbe ad importare maggiormente dall'estero prodotti che secondo me poco hanno a che fare con la nostra qualità se le normative restano così tu sei a rischio chiusura? si rischio di chiudere non ha senso non ce la faccio più Chiara abbiamo notizie lì? eccoci allora vedete che davanti a noi ci sono queste decine di agricoltori che adesso stanno mangiando ma ne abbiamo trovati alcuni che sono qui qui c'è con me Salvatore che è uno dei promotori degli organizzatori di questo gruppo voi poco prima della diretta mi avete detto noi stiamo da adesso in silenzio stampa perché abbiamo detto tanto le nostre rivendicazioni sono arrivate a chi doveva arrivare diamo una deadline che è quella di lunedì cioè rimaniamo qui in presidio fino a lunedì se non succede qualcosa noi prendiamo tutti i trattori e li portiamo in autostrada che cosa deve succedere? noi vogliamo un incontro con il ministro e se il ministro non ci incontra abbiamo deciso di entrare in autostrada il ministro Lollobrigida dell'agricoltura è l'unico con cui voi volete parlare? sì perché per quanto riguarda il nostro settore dobbiamo parlare con lui ma non perché ce l'abbiamo con il governo il governo deve andare in Europa a risolvere le nostre problematiche quindi abbiamo un documento e aspettiamo il ministro che prenda a mano questo documento premetto non ci bastano promesse ci vuole atti ci vuole qualcosa di concreto altrimenti non andiamo da nessuna parte e le cose concrete diciamo prima un po' me le avete spiegate e possiamo riassumerlo voi volete che si riveda il Green Deal che è questo piano molto ambizioso europeo che vuole arrivare ad avere emissioni zero in Europa entro il 2050 e per fare questo l'Europa chiama in aiuto anche voi agricoltori con alcune norme tra cui per esempio il divieto di utilizzare alcuni pesticidi entro il 2030 e questo voi dite non fa altro che danneggiare noi e avvantaggiare chi invece continua a importare da paesi in cui queste norme non vengono rispettate quindi giusto? sì anche perché perché ci devono obbligare a noi a non usare alcuni fitofarmaci e invece i paesi tipo India o altri paesi stanno comprando stabilimenti fermi per produrre di nuovo farmaci e utilizzarli nei loro prodotti che poi arriveranno portati nel nostro mercato perché sta succedendo questo perché poi andiamo a guardare la quotazione Bologna dove il grano canadese è quotato più del grano italiano ci sembra una pressa in gira a noi Tonia Tonia scusami Chiara come si chiama l'agricoltore lì con te? Salvatore Salvatore può sentire Tonia Tonia ci sei? Mastroboni sì lo sento allora se me li mettete un attimo a split per cortesia qui c'è un tema che è un tema deflagrante cioè loro dicono che qui c'è un tema di concorrenza sleale cioè che se loro devono stare dietro al piano green europeo per abbattere il riscaldamento climatico globale eccetera eccetera arrivano i russi gli indiani i cinesi e si fregano tutto cioè questo in buona sostanza è giusta la loro preoccupazione cioè c'è una svolta troppo immediata oppure invece loro adesso si lamentano ma hanno già avuto tanto? Allora guarda proprio alla vigilia del Consiglio Europeo di oggi l'Europa in realtà ha ceduto molto alle richieste degli agricoltori per esempio il famoso è uno degli argomenti più controversi su cui gli agricoltori hanno spinto di più è questo delle terre incolte ecco grazie alla Francia che è stato sempre uno dei paesi più diciamo che ha fatto più lobbying storicamente sugli agricoltori questa regola adesso la Commissione Europea accetterà un'altra deroga su questo 7% quindi gli agricoltori potranno continuare a coltivare questi terreni oppure si vedrà se verrà accettata addirittura la proposta francese e la Francia dice invece del 4% di terreni incolti facciamo il 7% di terreni che comunque garantiscono un minimo di biodiversità poi ci sono per esempio il Mercosur che è un'altra preoccupazione ho visto tanti slogan in Germania quando sono andate alle manifestazioni degli agricoltori si era allargata anche un po' a questi temi più geopolitici loro dicevano no al Mercosur ebbene la Commissione Europea doveva chiudere l'accordo in questi giorni e ha sospeso l'accordo col Mercosur i dazzi altro grande tema con la guerra in Ucraina io sono andata a vedere anche le proteste dei contadini degli agricoltori ma anche vi ricordate dei camionisti alla frontiera tra Polonia e Ucraina si era fermato tutto e in qualche modo avevano ragione un po' i trasportatori europei che dicevano agli ucraini sono state date regole speciali sono state date eccezioni particolari da quando è cominciata la guerra per aiutare la loro economia adesso basta e lo stesso vale per il grano e lo stesso vale per il grano e secondo me per esempio gli agricoltori hanno ragione su un altro punto che è quello del peso enorme che hanno i grandi distributori che decidono i prezzi a cui per esempio gli agricoltori vendono i loro prodotti ecco quello sarebbe un tema da affrontare perché la grande distribuzione continua a schiacciare i prezzi insomma hanno delle ragioni allora questi agricoltori secondo me hanno delle ragioni il problema è che in Germania dove io l'ho visto da vicino queste proteste giuste in parte non hanno raccontato alcuni dettagli per esempio gli agricoltori sono il 30% del bilancio europeo poi si può discutere come vengono spesi però il 30% del bilancio europeo va cioè prendono un sacco di sussidi questo intendi dire prendono tantissimi sussidi poi uno può discutere su come vengono impiegati questi sussidi però ultima cosa che vorrei dire quando noi facciamo noi giornalisti siamo chiamati a fare per esempio i servizi sulle grandi siccità sul Po che sparisce o sulle montagne italiane dove non c'è più neve noi stiamo parlando di un fenomeno che riguarda il cambiamento climatico l'Italia è uno dei paesi più colpiti a cambiamento climatico allora dobbiamo fare una scelta o noi ci diamo regole ci diamo vincoli per raggiungere appunto le zero emissioni e in qualche modo fermare questo cambiamento climatico oppure oppure no e allora decidiamo di capito allora facciamo un giro di opinioni Borgonovo Fusaro poi voglio sentire l'altra parte intanto un giro a testa vai intanto ammesso che ammesso e non concesso che la cancellazione totale delle emissioni sia la soluzione al cambiamento climatico e non è detto tagliare i sussidi agli agricoltori quando poi ci sono altre nazioni che continuano a inquinare se ne fregano serve solo a distruggere gli agricoltori poi il punto qui non è solo il cambiamento climatico perdonate il punto sono gli accordi commerciali che su cui l'Unione Europea ha dato una risposta buttando la palla in calcio d'angolo per prendere un po' di tempo perché la questione delle terre incolte è rinviata di un anno e fra un anno sono da capo Ricordiamolo queste terre incolte Mazzotti ce lo spiega lei che lei è un un agricofrutticoltore di Faenza tra l'altro anche alluvionato c'è avuto pure questo problema grosso coltiva nettarine susine e chiwi lei cosa gli dice l'Europa che dovrebbe tenere un 4% del suo terreno che sono 12 ettari non coltivato per un anno per rigenerarlo per dirla semplicemente cosa che non non ha un senso anche dal punto di vista tecnico agronomico perché qui chi si inventa queste cose sono tutte persone che con la realtà e con il sapere dell'agricoltore del contadino con le buone pratiche agricole non ci azzecca niente perché l'inquinamento che può fare un agricoltore con la sua impresa rispetto a quello che è la realtà dell'inquinamento totale del mondo cioè è insignificante se noi prendiamo i dati durante il covid che eravamo gli unici che potevamo continuare ad esercitare la nostra attività e si era fermato praticamente tutto noi andiamo a vedere l'inquinamento della pianura padana e ci sono moltissimo però noi che abbiamo continuato a lavorare e a dare da mangiare alle persone una cosa lei fa le susine per dire susine, pesche, netterine allora prendiamo un chilo di pesche che sono molto popolari in questo periodo grazie all'esse lunga allora prendo un chilo di pesche e le pago x al supermercato parecchio o dal fruttivendolo va bene a lei oggi un chilo di pesche quanto gliele pagano? la grande distribuzione quanto gliele paga un chilo di pesche? io le dico il dato del 2022 perché ho potuto raccogliere perché io quest'anno ho raccolto zero causa prima gelate poi alluvione e poi grandinate cancelliamo io ho fatto una media di 55 centesimi a chilo è stata una nata discreta 55 centesimi al chilo va bene? quello che ho realizzato io cosa costa un chilo? vediamo se le nostre politiche Baldino lei lo sa quanto costa un chilo di pesche al supermercato? costa 4,50 euro intorno ai 5 euro va bene tra i 4 e i 5 euro un chilo di pesche lei è 5 quindi 10 volte quasi 10 volte il suo quindi questo è l'ordo io dopo devo togliere e lei lo prende l'ordo bene se entrano in vigore tutte con l'entrata in vigore tutte queste cioè se lei deve utilizzare un fertilizzante più ecologico se lei deve mettere il 4% del suo terreno a nona cultura se deve rispettare una serie di regole si aggravia il crosto suo non solo si aggravia ma ci inducono a non produrre più quanto gli costa fare sto chilo di pesche a lei? dica la verità qualcosa guadagnerà no? non è che ci va a perdere a seconda della tipologia di conduzione dell'azienda andiamo dai 40 ai 50 centesimi quindi lei ha un margine di 5-10 centesimi a chilo che chiaramente se entrano in vigore queste regole queste regole si va a sottigliare ma non solo molti non riescono a capire la drammaticità di queste scelte che sta facendo l'Europa perché non solo ci rende meno competitivi con i costi ma ci porta a non produrre più perché certe scelte fanno sì il fatto che ci tolgono le medicine delle nostre piante quelle che purtroppo ancora molti si ostinano a chiamare pesticidi si chiamano fitofarmaci agrofarmaci sono i medicinali delle nostre piante sono quelli che servono per salvare l'uomo sicura per curarsi delle malattie perdiamo le piante e perdiamo il raccolto io credo che la battaglia degli agricoltori sia sacrosanta agricoltori di tutti i paesi unitevi variando Marx è una battaglia ottima sotto ogni profilo perché è la battaglia delle classi lavoratrici è la battaglia per la terra è una battaglia dell'identità e della cultura la terra rappresenta l'identità la cultura e il lavoro contro la liquidità di un capitalismo finanziario che invece in nome della svolta green sta colpendo ogni giorno di più le classi lavoratrici in realtà questa cosiddetta svolta green è semplicemente un ritinteggiare di verde il capitalismo e produrre business per pochi lasciando l'inferno per i più questa è una battaglia tra l'altro che si sta internazionalizzando perché riguarda non solo l'Italia la Germania ma l'Europa ma l'Europa tutta ed è da sperare che vada sempre più internazionalizzandosi è una battaglia sacrosanta contro una competitività spietata come è stato detto la competitività spietata è quella che colpisce i lavoratori impone merci di pessima qualità la moneta cattiva caccia la buona notoriamente e quindi è una battaglia giusta che dovrebbe essere supportata da tutti il nuovo proletariato agricolo Cattaneo ce l'hanno anche col governo anzi ce l'hanno col governo perché il governo ha fatto tante promesse ma poi queste promesse diciamo che al governo chiedono ulteriori risposte e fanno bene io credo che la Lobrigida incontrerà quegli agricoltori che sono fuori dal casello però siamo anche l'unico governo per esempio che sulla carne sintetica si è schierato senza sé e senza amare l'unica legge al mondo fatta per dire che per noi il benessere animale sono temi che possono essere coniugati con gli allevamenti con l'agricoltura cioè nella nostra visione l'agricoltore non è nemico dell'ambiente come molti in Europa vogliono far passare ma l'agricoltore è il primo custode non è che sono una cosa positiva per il cambiamento climatico siamo calmi credo che lui abbia interesse stiamo scivolando in un fanatismo stiamo scivolando in un fanatismo ambientalista stiamo a vedere i dati sull'infinamento da allevamenti intensivi è potentissimo però la protesta parte dalla Germania dove un governo con i socialisti e i verdi ha iniziato a togliere gli incentivi che dava agli agricoltori in nome della rivoluzione green e verde sostenibile ma non è vero questo è un approccio ideologico che rischia di farci deragliare dobbiamo invece aiutare gli agricoltori perché siano custodi del benessere dell'ambiente anche perché facciamo finta che noi blocchiamo tutto quello che c'è in Europa facciamo che va a zero chi produce ciò di cui abbiamo bisogno lo producono paesi che sono molto più inquinatori quindi anche l'obiettivo di essere sostenibile da un punto di vista ambientale non regge non funziona voglio sentire Moretti e Baldino su questo punto qui perché a me sembra scusate comunque sembra che qui la rivoluzione green stia andando a farsi benedire cioè insomma con questo clima qui sarà difficile mantenere mantenere gli obiettivi che si pone l'Europa Moretti lei sta in Europa tra l'altro io ho seguito anche molto e tra l'altro occupandomi di salute ho seguito anche molto gli aspetti diciamo dell'ambiente e anche dell'agricoltura noi tra l'altro abbiamo Paolo De Castro che è stato un ministro dell'agricoltura nel PD e che si occupa proprio di queste materie però guardate la tutela dell'ambiente e la strada verso l'economia sostenibile circolare ormai è tracciata quindi non si discute bisogna discutere sul come si arriva a raggiungere quei target attraverso una transizione giusta voglio però ricordare anche a chi ci ascolta che è la commissione europea che dal 2019 in avanti ha emesso tutta una serie di provvedimenti e il commissario dell'agricoltura è un certo Vacekowski che è un polacco che appartiene allo stesso gruppo politico di Giorgia Meloni cioè un conservatore che noi abbiamo aspramente criticato perché ha portato avanti delle forzature e delle direttive estremamente dure per la categoria che noi abbiamo corretto e grazie al lavoro del Parlamento europeo rispetto a questo Vacekowski che abbiamo criticato per tantissime ragioni altrimenti non avremmo raggiunto ora è chiaro che ci sono tante questioni di cui il Parlamento europeo si è occupato il PROSEC per esempio una battaglia che abbiamo vinto abbiamo vinto la battaglia contro il Nutriscore che la commissione ha sospeso Ma lei questi agricoltori come li vede? Cioè la sente una protesta da condividere da appoggiare o no? Io sono in Europa da quasi cinque anni e ti assicuro che con Coldiretti con Fagricoltura i sindacati degli agricoltori noi abbiamo ottenuto un costante rapporto tanto è vero che per quanto riguarda per esempio anche i fitofarmaci che non sono fertilizzanti sono fitofarmaci e nella maggioranza dei casi servono per far sì che la pianta sia anche più robusta dico che proprio di questi giorni la decisione della commissione e il Partito Democratico per esempio ha votato a favore di creare nuove tecniche anche per la coltivazione dove gli agricoltori debbano spendere meno acque e usare meno fertilizzanti e produrre molto di più Allora scusate quindi c'è un impegno su questo ma non è a conoscere le cose Scusate però fanno l'accordo con il Sud America Non è stato fatto l'accordo No è stato stanno ancora trattando e poi vediamo quando lo fanno il problema è che loro io non credo che l'agricoltore abbia interesse a inquinare sono i primi a volere ci guadagnano anche di più il problema è che se loro sono in competizione con il Canada dove se ne fregano di tutte le norme europee gli Stati Uniti dove usano gli antibiotici il Sud America dove ha le avanti tutta il Nord Africa vedremo cosa succederà tra l'altro io spero che il governo con questi nuovi accordi però io voglio dire una cosa esiste anche un ruolo guida dell'Europa che per diciamo da un punto di vista proprio della cultura scientifica dell'attenzione per certe tematiche deve assumere il problema è come farlo altrimenti diciamo vabbè siccome tutti tutti fanno schifo in cui non lo facciamo pure noi evviva poi ma dov'è? il ruolo guida è rispetto a chi? il ruolo guida è rispetto a chi? che non contiamo niente su nulla ma non è vero dal punto di vista delle conoscenze e della sensibilità ambientale ma facessero fare loro ma scusami ma anche 60 miliardi che per l'Europa darsi Chiara facciamo così siccome anche Mazzotta deve parlare i tuoi agricoltori vogliono parlare dopo chissimi minuti di pubblicità si voleva dirci no no subito prepara subito un intervento loro però io voglio che loro mi spieghino anche quanto costa a loro produrre quello che producono quanto gli dà la grande distribuzione e quindi io voglio capire da consumatore quant'è la differenza perché il punto è tutto lì cioè dove vanno a finire tutti questi questa duplicazione dei prezzi quando arriva appunto sulle nostre tavole pochissimi minuti e rimanete qui allora Chiara Proietti dalla Val di Chiana in Toscana vai eccoci allora Salvatore voleva dirvi una cosa sul dibattito in studio allora mi riaggancio al discorso che stavate facendo prima specialmente il secondo intervento non mi ricordo della signora giornalista secondo me deve venire nel terreno imparare cosa è l'agricoltura perché certi commenti ci fanno altamente incazzare scusatemi il termine perché se il territorio è tutelato e grazie a noi non siete voi giornalisti lo tutelate tutti i problemi che abbiamo è l'agricoltore che lo cura giorno dopo giorno con sudore da famiglie e generazioni non siete voi non siete voi e non accettiamo nemmeno queste dichiarazioni che state facendo quali? perché state parlando male di un settore che nemmeno conoscete perché noi tuteliamo il territorio tutti i giorni sistemandolo se noi smettiamo di lavorare quelle che vediamo di catastrofi saranno sempre di più perché sta cambiando il clima e anche quello non è colpa nostra non è colpa degli allevamenti andate a guardare le fabbriche le crociere tutto il trasporto su gomma che purtroppo il trasporto su gomma non ne possiamo fare a meno in tutta Europa la comunità europea deve lavorare a favore nostro non delle multinazionali andate a guardare lo statuto della comunità europea dove devono garantire il reddito eco per tutti va bene sì perfetto venga con noi un mese a lavorare insieme a noi vede cosa guadagniamo e come funziona il nostro settore guardi io ho semplicemente elencato dei fatti ho elencato dei fatti lei ha fatto propaganda allora i fatti sono ripeto che la commissione europea ha già ceduto le vostre richieste del 4% i treni incolti è un fatto no 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 ascolti noi partiamo dal presupporto noi non abbiamo bisogno di sussidi noi dobbiamo lavorare e vendere il nostro prodotto per quello che vale voi con questa politica la dovete smettere non c'è più la neve non c'è più ci sono le carestie vi lamentate voi delle carestie le carestie da dove vengono non è che vengono solamente da fenomeni naturali vengono anche dai cambiamenti climatici le garanzie non ce le abbiamo con le nostre aziende il nostro lavoro e con il consumatore che conosce il nostro prodotto perché i nostri prodotti al mondo le conoscono l'Europa è il vostro nome tutelare un terzo dei finanziamenti del bilancio europeo vanno nel settore agricolo voi l'Europa dovete solo in qualche modo ringraziarla perché la Francia ha fatto sempre delle battaglie giornali per difendervi e l'ha fatta anche noi siamo in Italia con tutto rispetto siamo in Italia intanto parliamo dell'agricoltura italiana non dei francesi perché non stiamo spaccando le strade con un ripper o bruciando copertoni va bene Salvatore senta una cosa Salvatore lei che cosa fa? cosa produce Salvatore lei cosa fa? ho un semplice allevamento di pecore familiare e facciamo formaggio abbiamo un minaccio aziendale lei vende anche il latte vende il latte ai produttori di formaggio vende anche il latte allora le faccio la stessa domanda che ho fatto prima a Mazzotti cioè lei un litro di latte che produce quanto gli costa produrlo e a quanto lo vede? allora guardi sono sincero perché sono sono sincero il nostro settore per quanto riguarda il latte o vino parlo di vello vino non ci possiamo lamentare ad oggi nonostante gli aumenti dei costi è aumentato anche il prezzo del nostro prodotto quindi per il latte o vino non mi lamento mi posso lamentare per quanto riguarda le altre spese non riguardano l'allevamento se uno fa un po' di contoterzi il gasolio le spese su ricambio è aumentato tutto del 30-40% semi con cime steose per il latte o vino cioè il suo profitto se lei dovesse vedere mi scusi diciamo il suo profitto negli ultimi due anni è calato? cioè quello che lei si mette in tasca va bene alla fine di tutto di quanto è calato? è calato di un 10-15% ma perché la mia azienda non si basa solo sul latte quindi non posso fare riferimento al latte va bene insomma gli è andata meglio di altri suoi colleghi è calato perché aumentavo tutto perché anche il gasolio agricolo da 70 centesimi lo stiamo pagando 1 euro 1 euro e 10 il concime se fate la media allora voi se fate una media negli ultimi due anni a quanto ci hanno pagato il grano da quando è stato pagato quasi a 50 euro poi è successo a noi ci è stato pagato una media di 18 euro il quintale le ultime due annate il grano duro a noi ci viene pagato dai 25 ai 28 centesimi il chilo e voi il pane quanto lo pagate quando andate a comprarlo? parecchio di più allora Moretti Baldino e Mazzotti in fila quindi la colpa Moretti parlate con loro che è più importante innanzitutto io ribadisco noi il confronto con le diverse categorie che vi rappresentano o dicono di rappresentare gli agricoltori in Parlamento Europeo l'abbiamo fatto devo dire anche che c'è una norma per esempio europea che vieta di mettere i prodotti sotto costo il governo tedesco e il governo francese l'hanno adottato il governo italiano no questo potrebbe essere per esempio un aiuto grande che si dà a questa categoria dopodiché non c'è nessun settore produttivo che diciamo dalla produzione a il consumo presenta così tanti passaggi che determinano l'impoverimento cioè il produttore con poi i vari elementi di distribuzione le grandi catene distributive guadagna sempre troppo poco quindi bisogna trovare il modo che ci sia una filiera corta tra chi produce e poi chi ovviamente mette in confezionamento siamo cresciuti in questo anno c'è stata un po' l'amitizzazione del sovranismo alimentare la protezione di tutto ciò che è italiano del made in Italy dei nostri prodotti anche giustamente dico però poi tra quello che è stato promesso e i tanti voti che sono stati presi da questo governo da queste categorie che cosa ci ritroviamo ma io quello che vedo rispetto a quello che ha fatto il governo poi andiamo all'Europa e vedo un grande tradimento perché di fatto il governo lo dicono i numeri ha raschiato il fondo del barile con l'ultima legge di bilancio sulla pelle degli agricoltori perché comunque io mi ritrovo una serie di misure che il governo ha tagliato ha tagliato ad esempio ha abolito l'esenzione IRPEF per gli agricoltori ha abolito l'esenzione contributiva per i giovani agricoltori ha reso obbligatoria l'assicurazione contro gli eventi climatici estremi ha abolito il credito d'imposta per l'acquisto del carburante agricolo ha definanziato una misura che era stata voluta da Patonelli che è agricoltura 4.0 che serviva agli agricoltori ed è servita proprio per fare investimenti per rendere più sostenibile la loro produzione quindi questo è quello che vedo la differenza tra la narrazione la propaganda e la realtà dei fatti ma io penso che risolvere questa protesta sacrosanta come una una lotta tra agricoltori e green deal misure ecologiche sia un po' forviante perché il tema non è non è il problema non è la misura ecologica il problema è che il costo delle misure che vanno incontro all'ambiente non deve essere scaricato in questo caso sugli imprenditori agricoli sugli agricoltori ma in generale sui cittadini perché altrimenti queste misure ecologiche se non c'è la partecipazione del cittadino falliscono e quindi è lì che deve intervenire l'Europa fare in modo che l'Europa e tutti i governi che questi costi non vengano scaricati sugli agricoltori no 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 non sto dicendo questo ci danneggiano non sto dicendo questo però ad esempio loro chiedono ad esempio che non ci sia concorrenza sleale e questo l'Europa lo deve spelare dobbiamo metterci d'accordo su un tema perché va bene qui abbiamo la posizione di Burgonovo che è quasi negazionista sul cambiamento climatico per cui per te queste misure semplicemente non servono poi c'è chi invece pensa che queste misure servano ma non debbano scaricarsi ma non debbano scaricarsi ma non debbano scaricarsi sui cittadini io non sono negazionistori per il cambiamento climatico allora se entriamo sul tema negazionismo climatico facciamo un'altra trasmissione non voglio entrarci io sto dicendo che per quale motivo scusate per quale motivo deve pagarlo lui il cambiamento climatico o io scusi scusi o lo devo pagare io nel momento in cui l'Europa non ha la forza di imporsi con nessuno i suoi concorrenti di queste norme se ne fregano lui peraltro la questione del cambiamento climatico è tra le ultime che lo riguardano a parte l'IRPEF che è una cosa sbagliata che ha fatto questo governo per gli agricoltori ma il problema sono gli altri mercati la concorrenza la misura ecologica il grano che arriva dal canale il grano che arriva dall'Operaina i prezzi ho due domande per lei la prima è ricapitolando la misura che fa più male a lei proprio nel suo per il suo reddito per la sua famiglia quindi per il suo tenore di vita imposta dall'Europa qual è? è quella di averci imposto la per la quasi totalità dei fitofarmaci che servivano per la cura delle nostre piante praticamente l'abolizione non ci permettono di usare quei prodotti che riescono a difendere e quindi che prodotti potete usare? possiamo usare dei prodotti che sono quando va bene non dico innocui ma poco efficaci e ci costano come minimo le 3-4 volte dei principi chiarissimo che usiamo seconda questione rispetto mentre gli indiani stanno comprando gli stabilimenti per riprodurre altri fitofare è stata bocciata quella direttiva sui pesticidi quindi deve stare tranquillo non sono tranquillo perché mi hanno telefonato anche questa mattina il tecnico della cooperativa che mi dà i prodotti dicendomi che un altro prodotto lo devo tenere in magazzino perché momentaneamente è sospeso quindi quindi ancora non viene dall'Europa il problema se mi lascia il problema è che queste persone qui tante volte non sono neanche correttamente informate di quelle che sono le nostre problematiche prima diceva la Moretti ma noi ci rapportiamo con Tizio Caio Sempronio che sarebbero le nostre rappresentanze agricole io non ho mai sentito uno fino ad oggi a parlare nel dibattito di queste problematiche il fatto che siamo gli unici italiani che siamo a protestare senza l'ausilio delle nostre organizzazioni sindacali siamo andati per le strade con i trattori a protestare da soli se parliamo di Spagna Francia Germania Polonia qualsiasi paese che è in protesta come settore agricolo sono tutti contro la Coldiretti no siamo praticamente non siamo ascoltati dalle nostre organizzazioni sindacali e quell'organizzazione perché l'organizzazione che ha citato lei la Coldiretti l'organizzazione che ha citato lei nel 2021 diceva che l'accordo ho qui gli articoli che l'accordo che c'era stato raggiunto con l'Unione Europea andava benissimo per gli agricoltori fino a pochi giorni fa telefonava i soci per dire non andate a protestare perché e c'erano delle dichiarazioni del Presidente dove diceva qua va tutto bene in Italia non c'è nessun agricoltore che non ha problemi e oggi erano con una farsa una farsa in Europa a Bruxelles a manifestare cercando di cavalcare l'onda a protestare ci sono gli agricoltori non ci sono le organizzazioni sindacali beh questo è un punto nessuno ha sottolineato questa cosa ma in Germania posso dire una cosa? la Germania? sì allora Mastro Buoni e Fusaro veloci tutti molto veloci vi prego allora in Germania diciamo che la protesta ha poco a che fare direttamente con il Green Deal anzi forse non c'entra niente c'entra con una sentenza della Corte Costituzionale che ha costretto a dicembre il governo a tagliare dei sussidi un po' ovunque e poi il governo ha ammesso dopo pochissime proteste degli agricoltori che diciamo la parte da leone dei sacrifici chiesti ai tedeschi era toccato agli agricoltori quindi il governo tedesco ha fatto marcia indietro quindi anche il governo tedesco come la Commissione Europea già hanno fatto marcia indietro l'altra questione quando io sono andata a vedere quelle proteste tutti i giorni quindi ero tutti i giorni con loro una parte la stragrande maggioranza è vero che c'era l'associazione degli agricoltori che diceva noi vogliamo gli sconti sul diesel e vogliamo il ripristino degli sgravi fiscali che sono cose molto simili a quelle che dicono gli agricoltori italiani ma quando sono cominciati a comparire i primi cartelli i primi cartelli con la forca e appeso il semaforo come a dire il semaforo deve andare a casa messaggi contro il governo il semaforo sarebbe l'alleanza tedesca che governa l'alleanza tedesca eccetera poi messaggi ancora più violenti cioè si è politicizzata la faccenda esatto il capo dell'associazione degli agricoltori italiani tedeschi li ha chiamati degli idioti ha detto noi non vogliamo avere niente a che fare con gli estremisti in piazza noi vogliamo il ripristino delle agevolazioni fiscali vogliamo l'allentamento appunto il ripristino consiglio non richiesto consiglio non richiesto a Mazzotti e ai nostri agricoltori di Valdichiana che ringrazio per aver partecipato stasera non fatevi cavalcare dal primo cialtrone che viene lì a promettervi chissà che cosa e magari siede in Parlamento mantenete mantenete la protesta mantenete la protesta diciamo a politica perché è l'unica possibilità che avete di poterla portare avanti consiglio non richiesto da giornalista da osservatore che ne ha viste molte di queste proteste Salvatore 30 secondi e Fusaro per chiudere manterremo questa linea politica anzi mi riaggancio al suo discorso e ho apprezzato tutto quello che ha detto lei perché è da apprezzare ancora un applauso e altra cosa le associazioni di categoria insieme ai governi precedenti mi collego al discorso della sua collega stava parlando sono coloro che hanno firmato le direttive in Europa questi anni passati quindi non attacchiamoci ora negli ultimi mesi andiamo a guardare negli anni passati chi ha firmato e chi doveva tutelare gli agricoltori perché torno a dire facile parlare da uno studio venite sul campo arrivederci Fusaro il problema per cui stanno giustamente protestando gli agricoltori nasce dal fatto che nel mondo globalizzato se tu imponi come fa l'Unione Europea delle norme stringenti agli agricoltori europei e poi lasci al tempo stesso la liberalizzazione della competitività stai introducendo merci pessime in Europa e stai distruggendo il mondo del lavoro questo è il punto l'Unione Europea se esistesse non fosse solo una moneta unica a beneficio dei banchieri dovrebbe difendere le classi lavoratrici cosa che non fa e queste proteste sacrosante nascono da queste adesso cercheranno di demonizzarle dato che non possono più tacerne dovranno parlarne demonizzandone e già hanno iniziato a farlo ce ne occupiamo anche settimana prossima sicuramente in qualche modo Chiara parla con questi agricoltori cerca di capire quello che sta succedendo perché insomma torneremo sicuramente in onda su questo tema perché ho l'impressione che insomma non finisca qua ci fermeremo grazie a tutti per essere stati con noi ci vediamo giovedì prossimo grazie a tutti